La Locanda della Tormenta presenta Novella degli Scacchi di Stefan Zweig Buon ascolto Nella grande nave passeggeri che a mezzanotte doveva salpare da New York per Buenos Aires regnava la consueta attività e agitazione dell'ultima ora. Gente del luogo si accalcava per accompagnare gli amici. Fattorini del telegrafo col berretto sulle 23 attraversavano i saloni scandendo nomi ad alta voce. Si trascinavano valigie e mazzi di fiori. Bambini correvano curiosi su e giù per le scale. Mentre l'orchestra suonava in perterrita per il deck show. Io stavo conversando con un conoscente sul ponte di passeggio. Un po' indisparte da questa confusione. Quando accanto a noi guizzarono taglienti due o tre lampi al magnesio. A quanto pareva i giornalisti avevano intervistato e fotografato in fretta, poco prima della partenza, qualche personaggio importante. Il mio amico guardò da quella parte e sorrise. Avete un uccello raro qui a bordo, lo Zentovic. E siccome il mio viso dimostrava chiaramente una certa perplessità alla notizia, aggiunse a modo di spiegazione. Mirko Zentovic, il campione mondiale di scacchi, ha girato tutta l'America da est a ovest per i tornei. Ed ora si avvia verso nuovi trionfi in Argentina. Adesso mi ricordavo infatti del giovane campione e anche di certi particolari relativi alla sua carriera affolgorante. Il mio amico, più di me attento lettore di giornali, era in grado di completarli con tutta una serie di aneddoti. Zentovic, circa un anno prima, si era collocato di colpo accanto ai più accreditati e anziani maestri dell'arte degli scacchi, come Alecchine, Capablanca, Tartacower, Lasker, Boguljutov. Da quando Ratschevski, il ragazzo prodigio di sette anni, si era rivelato nel torneo degli scacchi del 1922 a New York, mai l'irruzione di un perfetto ignoto nella gloriosa corporazione aveva fatto tanto scalpore. Infatti le qualità intellettuali di Zentovic non sembravano certo pronosticargli fin dall'inizio una così abbagliante carriera. Ben presto trappelò il segreto che questo campione, nella sua vita privata, non era capace di scrivere una frase in alcuna lingua senza orrori d'ortografia. E come diceva con astiosa ironia uno dei suoi stizziti colleghi, la sua ignoranza era parimente universale in tutti i campi. Figlio di uno slavo meridionale, povero in canna, battegliere sul Danubio, che con la sua barchetta una notte era stato investito da un vapore carico di granaglie, il ragazzo, allora dodicenne dopo la morte del padre, era stato accolto per misericordia dal parroco di quel paese sperduto. E il buon prete aveva onestamente cercato di compensare, con ripetizioni a casa, quel che il taciturno, ottuso ragazzo dalla fronte quadra non riusciva a imparare nella scuola del villaggio. Ma gli sforzi restarono vani. Mirko fissava sempre, con estraneità, i segni scritti che gli erano stati spiegati già cento volte. Al suo cervello lento e pesante mancava la capacità di ritenere anche i più semplici oggetti di studio. Quando gli toccava di far di conto, ancora a 14 anni, doveva aiutarsi con le dita e leggere un libro o un giornale richiedeva al giovane già adolescente un particolare sforzo. Eppure Mirko non si poteva dire affatto svogliato o riottoso. Faceva docilmente ciò che gli veniva comandato. Andava a prendere l'acqua, spaccava la legna, aiutava nei lavori dei campi, riassettava la cucina ed eseguiva coscienziosamente, anche se con irritante lentezza, ogni servizio che gli veniva richiesto. Ma quel che indispettiva di più il buon parroco nello strambo ragazzo era la sua totale mancanza di partecipazione. Non faceva niente senza precisa richiesta, non poneva mai una domanda, non giocava con gli altri ragazzi e di sua iniziativa non cercava nessuna occupazione, finché qualcuno non glielo ordinava in modo esplicito. Appena Mirko aveva sbrigato le faccende di casa, si sedeva torpido in qualche angolo della stanza con lo sguardo vuoto che hanno le pecore al pascolo, senza partecipare minimamente a quanto gli avveniva intorno. Mentre il parroco, la sera, fumando pacifico la lunga pipa da contadino, giocava col maresciallo della gendarmeria le sue solite tre partite a scacchi, il ragazzo, dalle bionde ciocche spioventi, se ne stava coccolato in silenzio le accanto e in apparenza, assonnato ed indifferente, fissava la scacchiera. Una sera d'inverno, mentre i due giocatori erano assorti nella loro partita quotidiana, dalla strada del villaggio si udirono risuonare sempre più rapide e vicine le campanelle di una slitta. Un contadino col berretto incipriato di neve entrò di furia. La sua vecchia madre era moribonda e il parroco doveva affrettarsi per impartirle in tempo l'estrema unzione. Senza esitare il parroco lo seguì. Il maresciallo, che non aveva ancora finito il suo bicchiere di birra, si accesa una nuova pipa prima di andar via e stava a punto per calzare i pesanti stivaloni, quando fu colpito dallo sguardo di Mirko, fisso e immobile sulla scacchiera con la partita incominciata. «Allora vuoi terminarla tu?» disse scherzando, convintissimo che il sonnacchioso ragazzo non avrebbe saputo muovere un solo pezzo sulla scacchiera nel modo giusto. Il ragazzo guardò in su timidamente, poi annui e si sedette al posto del parroco. Dopo quattordici mosse, il maresciallo era battuto e inoltre doveva riconoscere che la sua sconfitta non era affatto dovuta ad una svista, ad una trascuratezza. La seconda partita non andò diversamente. «L'asina di Balaam!» esclamò stupefatto il parroco al suo ritorno, spiegando al maresciallo, meno ferrato nella Bibbia, che già duemila anni prima si era verificato un analogo miracolo, quando un essere muto d'un tratto aveva parlato il linguaggio della sapienza. Nonostante l'ora tarda, il parroco non poté trattenersi dallo sfidare il suo famulo semi-analfabeta a singolar tenzone. Mirko batte anche lui con facilità. Giocava tenace, lento, imperturbabile, senza alzare nemmeno una volta dalla scacchiera alla larga frontechina. Ma giocava con innegabile sicurezza. Né il maresciallo, né il parroco il giorno dopo furono in grado di vincere una partita contro di lui. Il parroco, che meglio di chiunque altro poteva giudicare l'arretratezza del suo allievo in tutto il resto, ora fu preso da una vera curiosità di sapere fino a che punto questo talento unilaterale e straordinario avrebbe retto ad un più severo esame. Dopo aver fatto tagliare a Mirko dal barbiere del villaggio, gli ispidi, capelli biondo paglia, per renderlo in qualche modo presentabile, lo portò con la sua slitta nella piccola città vicina. Nel caffè della piazza principale conoscevo un angolo riservato a certi arrabbiati giocatori di scacchi con i quali egli stesso, come sapeva per esperienza, non era in grado di misurarsi. I presenti furono non poco meravigliati quando il parroco spinse dentro il caffè il quindicenne dai capelli color paglia e dalle guance rosse, col suo giubbotto foderato di pelle di pecora e i pesanti alti stivaloni che rimase in un angolo stranito con gli occhi bassi per la timidezza finché lo chiamarono a un tavolo da gioco. Nella prima partita Mirko fu battuto perché non aveva mai visto dal buon parroco la cosiddetta apertura siciliana. Nella seconda partita riuscì già a impattare con il migliore giocatore. Ma dalla terza e dalla quarta li vinse tutti uno dopo l'altro. In una cittadina delle province slave meridionali avviene assai di rado qualcosa di eccitante. Sicché la prima comparsa di questo campione rurale fece subito sensazione fra i notabili li riuniti. Fu deciso all'unanimità che il ragazzo prodigio doveva restare senz'altro in città fino al giorno seguente affinché si potessero convocare gli altri membri del club degli scacchi e soprattutto si potesse portare la notizia al vecchio conte Simzivic un fanatico del gioco degli scacchi nel suo castello. Il parroco che considerava il suo pupillo con un orgoglio del tutto nuovo ma nonostante la gioia della scoperta non voleva trascurare il suo dovere di celebrare la funzione domenicale si dichiarò disposto a lasciarli Mirko per un'altra prova. Il giovane Zentovic fu alloggiato nell'albergo a spese dei giocatori e quella sera vide per la prima volta un WC. Il pomeriggio del giorno successivo domenica la sala da gioco era strapiena. Mirko seduto immobile per quattro ore davanti alla scacchiera senza dire una parola e senza neppure alzare gli occhi vinse un giocatore dopo l'altro. Infine venne proposta una partita simultanea. Ci volle un po' prima che si riuscisse a far capire all'ignaro che nella partita simultanea egli doveva battersi da solo contro i diversi giocatori. Ma appena Mirko ebbe compreso il sistema si trovò ben presto a suo agio e girando lentamente da un tavolo all'altro con le sue grosse scarpe scricchiolanti vinse infine sette delle otto partite. Cominciarono allora grandi consultazioni. Per quanto il nuovo campione non appartenesse in senso stretto alla città tuttavia l'orgoglio locale era vivamente infiammato. Forse la piccola città della cui esistenza sulla carta geografica finora nessuno s'era accorto avrebbe avuto finalmente per la prima volta l'onore di mandare per il mondo un uomo famoso. Un agente di nome Kohler che di solito si limitava a procurare canzonette e canzonettiste per il cabaret della quarnigione si dichiarò pronto per un compenso anno supplementare a far impartire al giovane un addestramento specialistico nell'arte degli scacchi da un piccolo ma eccellente maestro che egli conosceva a Vienna. Il conte Simzvic che in 60 anni di pratica quotidiana negli scacchi non aveva mai incontrato un avversario così notevole sottoscrisse subito l'importo. Quel giorno cominciò la sorprendente carriera del figlio del battelliere dopo sei mesi Mirko padroneggiava tutti i segreti della tecnica degli scacchi pur con un limite curioso che più tardi negli ambienti professionali fu molto notato e preso in giro infatti Zentovic non riuscì mai a giocare una sola partita a memoria o come si indice in gergo tecnico alla cieca gli mancava del tutto la capacità di collocare il campo di battaglia nello spazio sconfinato della fantasia doveva sempre avere davanti a sé tangibilmente il quadrato bianco e nero con le 64 case e i 32 pezzi ancora al tempo della sua fama mondiale portava sempre con sé una scacchiera pieghevole da tasca per rappresentarsi visivamente la posizione quando voleva ricostruire una partita o risolvere un problema per proprio conto questo difetto per sé trascurabile rivelava una mancanza di forza immaginativa in quel ristretto ambiente veniva discusso con accanimento come se in campo musicale un eminente virtuoso o direttore d'orchestra si fosse dimostrato incapace di suonare o dirigere senza avere dinnanzi la partitura ma questa singolare caratteristica non rallentò affatto la stupenda ascesa di Mirko a 17 anni aveva già vinto una dozzina di tornei a 18 aveva conquistato il titolo di campione ungherese a 20 infine il titolo mondiale i più audaci campioni ciascuno infinitamente superiori a lui per doti intellettuali fantasia ed arditezza soccombevano alla sua dura e fredda logica come Napoleone al greve Kutosov come Annibale a Fabio il temporeggiatore di cui Livio racconta che da fanciullo aveva dimostrato simili sorprendenti tratti di flemma e imbecillità così avvenne che nell'illustre galleria dei campioni di scacchi dove sono riuniti più diversi tipi di superiorità intellettuale filosofi matematici ingegni calcolatori fantasiosi e spesso creativi si inserisse per la prima volta un perfetto outsider del mondo intellettuale un goffo taciturno ragazzotto contadino dal quale neppure il giornalista più navigato riusciva a strappare una sola parola che fosse utilizzabile per un articolo certo le eleganti battute che Zentovic negava ai giornali erano compensate in abbondanza dagli aneddoti sulla sua persona poiché nell'attimo in cui Zentovic lasciava la scacchiera in cui era impareggiabile maestro diventava senza scampo una figura grottesca e quasi comica nonostante il solenne abito nero la pomposa cravatta con la spilla di perle un po' vistosa e le mani laboriosamente curate restava nel contegno e nelle maniere lo stesso rozzo contadinello che al villaggio aveva scopato la stanza del parroco in modo maldestro e addirittura sfacciatamente grossolano egli cercava con gioia e rabbia dei suoi colleghi di cavare dal suo talento e dalla sua fama tutto il denaro possibile mostrando una meschina e spesso anche volgare avidità viaggiava da una città all'altra alloggiando sempre negli alberghi più a buon mercato giocava nei circoli più miseri purché gli pagassero l'onorario richiesto si lasciava ritrarre sulle reclame delle saponette e senza badare allo scherno dei suoi concorrenti i quali sapevano benissimo che non era in grado di scrivere tre frasi in modo corretto aveva venduto addirittura la sua firma per una filosofia degli scacchi scritta in realtà da uno studentello galiziano per un editore intraprendente come a tutti i caratteri ostinati gli mancava ogni senso del ridicolo da quando aveva vinto il campionato mondiale si considerava l'uomo più importante del mondo e la consapevolezza di aver sbaragliato sul loro stesso terreno tutti quei parlatori e scrittori così intelligenti intellettuali brillanti e soprattutto la tangibile constatazione di guadagnare più di loro tramutava la sua originaria insicurezza in un orgoglio freddo e quasi sempre goffamente ostentato ma come potrebbe una gloria così improvvisa non inebriare una testa così vuota concluse il mio amico che aveva appena finito di confidarmi alcune belle dimostrazioni dell'infantile prepotenza di Zentovic come potrebbe un contadinotto ventunenne del banato non commettere superbia se ad un tratto cincischiando un po' con i pezzi su una tavoletta di legno in una settimana guadagna più di tutto il suo villaggio in un anno a furia di tagliar legna e arrangiarsi nel modo più penoso e poi non è davvero maledettamente facile ritenersi un grand'uomo se non si ha la minima idea che siano mai esistiti un Rembrandt un Beethoven un Dante un Napoleone questo ragazzo nel suo cervello murato sa soltanto una cosa che da mesi non ha perso una sola partita a scacchi e poiché ignora appunto che oltre agli scacchi e al denaro esistano altri valori su questa terra ha tutte le ragioni di essere entusiasta di se stesso i racconti del mio amico non mancarono di suscitare in me una particolare curiosità tutti i generi di persone monomaniache chiuse in un'unica idea mi hanno sempre interessato perché più uno si circoscrive tanto più d'altra parte è vicino all'infinito proprio questi tipi in apparenza lontani dal mondo si costruiscono nella propria materia a modi termiti una straordinaria e singolarissima epitome del mondo perciò non feci mistero della mia intenzione di seguire più da vicino sotto la lente questo insolito specimen di univocità intellettuale durante i 12 giorni di viaggio fino a Rio ma lei non avrà molta fortuna mi avvertì il mio amico per quanto ne so nessuno è ancora riuscito a cavar fuori da Zentovic il benché minimo materiale psicologico dietro tutta la sua abissale limitatezza questo scaltro contadino nasconde la grande prudenza di non scoprirsi mai mediante la semplice tecnica di evitare ogni conversazione tranne che con paesani del suo stesso ambiente con cui si incontra in piccole osterie quando annusa una persona colta si ritira nel suo guscio così nessuno può vantarsi di aver sentito da lui una parola sciocca o di aver misurato la profondità presumibilmente illimitata della sua ignoranza il mio amico aveva ragione nei primi giorni di viaggio mi risultò impossibile avvicinarmi a Zentovic senza essere rozzamente importuno il che in fin dei conti non è nel mio stile qualche volta è vero passeggiava sul ponte ma con le mani sempre incrociate dietro la schiena nell'atteggiamento fiero e assorto di Napoleone nel famoso ritratto inoltre faceva il suo giro peripatetico del ponte con passo così rapido e impetuoso che si sarebbe dovuto correre dietro al trotto per potergli parlare anche nei saloni nel bar nella sala da fumo non si faceva mai vedere come mi informò lo steward in via confidenziale passava la maggior parte del giorno nella sua cabina per studiare o ricapitolare delle partite su una grande scacchiera dopo tre giorni cominciai ad arrabbiarmi veramente perché la sua abile tecnica di difesa era più forte della mia volontà di avvicinarlo in vita mia non avevo mai avuto ancora l'occasione di conoscere personalmente un campione di scacchi e ora quanto più mi sforzavo di rappresentarmi un simile tipo tanto più inimmaginabile mi appariva un'attività mentale che per tutto una vita ruota esclusivamente intorno ad uno spazio di 64 case bianche e nere conoscevo bene per diretta esperienza la misteriosa attrazione del gioco dei re l'unico fra tutti i giochi escogitati dall'uomo che si sottragga sovranamente alla tirannia del caso e dia la palma della vittoria all'intelletto soltanto o per meglio dire a una forma particolare di talento intellettuale ma non ci si rende già colpevoli di una limitazione offensiva nel chiamare gli scacchi un gioco non è anche una scienza un'arte oscillante fra queste due categorie come la bara di maometto fra cielo e terra straordinario legame fra tutte le coppie di opposti antichissimo eppure eternamente nuovo meccanico nella disposizione e animato solo dalla fantasia limitato in uno spazio rigidamente geometrico e insieme infinito nelle sue combinazioni in continua evoluzione eppure sterile un pensiero che non conduce a nulla una matematica che non calcola nulla un'arte senza opere un'architettura senza sostanza e nonostante ciò come dimostrato dai fatti più durevole nella sua essenza ed esistenza di tutti i libri e le opere l'unico gioco che appartenga a tutti i popoli e a tutti i tempi e di cui nessuno sa quale il dio l'abbia portato sulla terra per ammazzare la noia a cuire i sensi a vincere l'anima dov'è in esso il principio e dove la fine ogni bambino può imparare le sue prime regole ogni sciocco può cimentarvisi e tuttavia all'interno di questo stretto immutabile quadrato esso riesce a produrre una particolare specie di campioni non paragonabile a nessun'altra uomini dotati solo per gli scacchi geni specifici nei quali visione pazienza e tecnica operano in proporzioni così precise come nel matematico nel poeta nel musicista solo in una diversa stratificazione e connessione in altri tempi quando furoreggiava la fisiognomica un gal avrebbe forse sezionato i cervelli di questi campioni di scacchi per constatare se in questi geni fosse più intensamente caratterizzata che in altri crani una particolare circonvoluzione della massa celebrale una specie di muscolo o bernoccolo degli scacchi e come si sarebbe eccitato uno di questi fisiognomici osservando il caso di Zentovic in cui tale genio specifico sembrava incluso in un'assoluta ottusità intellettuale come un unico filo d'oro in una massa di rocce inerte in linea di principio mi era sempre sembrato naturale che questo gioco così straordinario e geniale dovesse crearsi dei campioni tutti speciali però com'era difficile anzi impossibile immaginarsi la vita di un uomo intellettuale attivo che riduce il mondo solo al ristretto margine fra bianco e nero che cerca i trionfi della sua vita solo nelle mosse a destra e a sinistra avanti e indietro di 32 pezzi un uomo per cui in una nuova apertura far avanzare il cavallo invece del pedone significa già una grande impresa e un misero cantuccio di mortalità in fondo manuale di scacchi un uomo un uomo dotato di intelligenza che senza impazzire può dedicare per 10 20 30 40 anni tutta la forza del suo pensiero può dedicare per 10 20 30 40 anni tutta la forza del suo pensiero sempre e continuamente al ridicolo compito di spingere in un angolo un re di legno su una tavola di legno ed ora per la prima volta un simile fenomeno un genio così particolare o un così enigmatico folle mi era materialmente vicinissimo 6 cabine più in là sulla stessa nave e io povero infelice in cui la curiosità per le questioni psicologiche degenera sempre in una specie di passione non ero in grado di ascoltarlo cominciai ad escogitare le più assurde astuzie solleticarlo magari nella sua vanità illudendolo con una falsa intervista per un giornale importante o prenderlo per la sua cupidigia proponendogli un lucroso torneo in Scozia ma alla fine mi ricordai che la più sperimentata tecnica dei cacciatori per attirare il gallo cedrone consiste nel limitare il suo verso quando è in amore che cosa poteva essere più efficace in verità per attirare su di me l'attenzione di un campione di scacchi che giocare a scacchi io stesso in tutta la mia vita non sono mai stato un vero artista degli scacchi per la semplice ragione che mi sono occupato di scacchi sempre con leggerezza e solo per divertimento se mi siedo per un'ora davanti alla scacchiera non lo faccio affatto per stancarmi ma al contrario per rilassarmi dalla tensione nervosa io gioco a scacchi nel senso più letterale del termine mentre gli altri i veri giocatori di scacchi fanno sul serio ora negli scacchi come nell'amore è indispensabile un compagno e per il momento non sapeva ancora se oltre a noi vi fossero a bordo altri appassionati del gioco per stanarli organizzai nello smoking room una trappola primitiva sedendomi con mia moglie per quanto ella sia ancora più debole di me nel gioco davanti a una scacchiera a modi uccellatori e infatti non avevamo fatto ancora sei mosse che già qualcuno passando si fermò e un altro chiese il permesso di assistere alla fine venne anche il compagno auspicato che mi sfidò ad una partita si chiamava Mac Connor ed era un ingegnere minerario scozzese che a quanto mi fu detto si era fatto un grosso patrimonio con pozzi petroliferi in California un uomo d'aspetto robusto con forti dure mascelle quasi quadrate una poderosa dentatura e un colorito intenso il cui rosso acceso era dovuto probabilmente almeno in parte a generose libagioni di whisky le spalle eccezionalmente larghe dalla muscolatura quasi atletica risaltavano in modo caratteristico purtroppo anche nel gioco perché codesto Mr. Mac Connor apparteneva a quella specie di uomini di successo infatuati di sé che anche nel gioco meno impegnativo avvertono una sconfitta come un'umiliazione della propria personalità abituato ad imporsi nella vita senza riguardi per nessuno e viziato dal suo effettivo successo questo massiccio self-made man era così removibilmente compenetrato della sua superiorità che ogni resistenza lo irritava come una protesta impertinente e quasi un'offesa quando perse la prima partita si mise di cattivo umore e cominciò a dichiarare in modo formale e dittatoriale che ciò poteva essere avvenuto solo per una momentanea disattenzione alla terza diede la colpa della sua sconfitta al chiasso della sala vicina non era mai disposto a perdere una partita senza chiedere subito la rivincita da principio questo ambizioso accanimento mi divertì alla fine l'ho presi solo come un inevitabile fenomeno concomitante della mia vera intenzione che era quello di attirare al nostro tavolo il campione mondiale il terzo giorno ci riuscì ma solo a mezzo sia che Zentovice ci avesse osservato davanti alla scacchiera dall'oblò del ponte di passeggio o che onorasse solo per caso della sua presenza allo smoking room fatto sta che appena vide in noi profani esercitare la sua arte senza volerlo si avvicinò di un passo e da questa moderata distanza gettò un'occhiata critica sulla nostra scacchiera McConnor stava appunto muovendo e quest'unica mossa sembrò sufficiente per far capire a Zentovic che il seguire ulteriormente i nostri sforzi dilettanteschi sarebbe stato ben poco degno del suo interesse magistrale con lo stesso gesto incurante con cui uno di noi in libreria scarta un cattivo romanzo poliziesco che gli è stato proposto senza neppure sfogliarlo egli si allontanò dal nostro tavolo e uscì dalla smoking room soppesato e giudicato troppo leggero pensai fra me un po' irritato da quello sguardo freddo e sprezzante e per sfogare in qualche modo il mio malumore disse a McConnor la sua mossa non sembra aver entusiasmato troppo il campione che campione gli spiegai che il signore che ci era appena passato accanto e aveva guardato con disapprovazione il nostro gioco era Zentovic il campione di scacchi ebbene aggiunsi noi due dovevamo sopportarlo e rassegnarci senza troppo soffrire al suo illustre disprezzo la povera gente fa quel che può ma con mia sorpresa queste parole indolenti ebbero su McConnor un effetto del tutto inaspettato subito si agitò dimenticò la nostra partita e il suo amor proprio cominciò a pulsare in modo addirittura udibile non immaginava affatto disse che Zentovic fosse a bordo e Zentovic doveva assolutamente giocare con lui in vita sua non aveva ancora mai giocato con un campione mondiale salvo una volta in una partita simultanea con altri 40 già questo era stato tremendamente eccitante e da allora aveva quasi vinto conoscevo di persona non è il campione dissi di no non volevo interpellarlo e invitarlo da noi rifiutai adducendo il motivo che Zentovic per quanto ne sapevo non era molto incline a far nuove conoscenze inoltre che piacere poteva rappresentare per un campione mondiale mettersi con noi giocatori di terza categoria ora con un uomo ambizioso come McConnor non avrei dovuto usare l'espressione giocatori di terza categoria furibondo si tirò indietro sulla sedia e dichiarò bruscamente che da parte sua non poteva credere che Zentovic avrebbe rifiutato il cortese invito di un gentleman a questo avrebbe pensato lui gli feci come desiderava una succinta descrizione personale del campione ed egli piantando in asso senza scrupoli la nostra scacchiera subito si precitò con sfrenata impazienza sul ponte di passeggio alla ricerca di Zentovic di nuovo sentì che era impossibile trattenere il proprietario di così larghe spalle appena aveva gettato la sua volontà in una causa aspettai con una certa tensione dopo dieci minuti McConnor ritornò non troppo rasserenato a quanto mi parve allora gli chiesi lei aveva ragione mi rispose alquanto irritato non è un signore molto simpatico mi sono presentato gli ho detto chi sono non mi ha teso neppure la mano ho cercato di spiegargli come saremmo tutti fieri e onorati a bordo se avesse voluto giocare una partita simultanea contro di noi ma è restato lì maledettamente rigido ha detto che gli dispiace ma ha certi impegni contrattuali verso il suo agente che gli impediscono espressamente di giocare senza un orario durante la tournée la sua tariffa minima è 250 dollari a partita mi mise a ridere non sarei mai arrivato a pensare che muovere i pezzi dal nero al bianco potesse essere un affare così lucroso bene spero che lei lo abbia salutato con pari cortesia ma mcconnor rimase serissimo la partita è fissata per domani pomeriggio alle 3 qui nel salone da fumo spero che non ci lasceremo ridurre in polpette così facilmente come gli ha detto di sì per 250 dollari esclamai profondamente colpito perché no se avessi mal di denti e per caso ci fosse un dentista a bordo non pretenderei che mi cavasse il dente gratis il tipo ha ragione di tenere i prezzi così alti in ogni professione i veri esperti sono anche i migliori uomini d'affari e per quanto mi riguarda patti chiari amici cari preferisco pagare in contanti che farmi concedere un favore da un signor zentovic e alla fine doverlo pure ringraziare in fondo nel nostro club ho perduto già più di 250 dollari in una sera e senza giocare con un campione del mondo per giocatori di terza categoria non è una vergogna essere battuto da uno zentovic mi divertì ad osservare come profondamente avesse offeso l'amor proprio di mcconnor con l'innocente espressione giocatori di terza categoria ma siccome era disposto a pagare il suo costoso divertimento non avevo niente da obiettare contro la sua ambizione mal riposta che infine mi avrebbe consentito di conoscere l'oggetto della mia curiosità informammo in fretta dell'imminente incontro i 4 o 5 signori che finora si erano dichiarati giocatori di scacchi e per essere disturbati il meno possibile dalla gente di passaggio riservamo in anticipo non solo il nostro tavolo ma anche quelli vicini per la prossima partita il giorno dopo il nostro gruppetto era comparso al completo allora stabilita il posto centrale di fronte al campione era destinato naturalmente a mcconnor che scaricava il suo nervosismo accendendo un sigaro dopo l'altro e continuando a guardare inquieto l'orologio ma il campione avevo già presagito qualcosa di simile dai racconti del mio amico si fece aspettare per 10 minuti buoni per cui il suo ingresso acquistò maggior solennità si avvicinò al tavolo tranquillo e rilassato senza presentarsi sapete chi sono io e chi siete voi non mi interessa sembrava dire questa sua scortesia cominciò a dare con professionale secchezza le disposizioni del caso poiché una partita simultanea era impossibile a bordo per mancanza di scacchiere disponibili ci proponeva di giocare tutti insieme contro di lui dopo ogni mossa per non disturbare le nostre consultazioni egli si sarebbe ritirato ad un altro tavolo in fondo alla sala appena compiuta la nostra contromossa poiché purtroppo non c'era portata di mano nessun campanello dovevamo picchiare con il cucchiaio contro un bicchiere come tempo massimo per ogni mossa proponeva dieci minuti se non desideravamo un diverso intervallo naturalmente come scolari timidi approvamo ogni proposta nel sorteggio del colore a Zentovic toccò il nero mentre ancora stava in piedi fece la prima contromossa e subito dopo si diresse al posto che si era assegnato per l'attesa dove si mise a sfogliare comodamente seduto una rivista illustrata sarebbe poco interessante descrivere la partita naturalmente finì come doveva finire con la nostra totale sconfitta e già alla ventiquattresima mossa il fatto che un campione mondiale di scacchi spazzasse via con la mano sinistra una mezza dozzina di giocatori mediocri e men che mediocri non era di per sé molto sorprendente ma tutti noi diede fastidio il modo prepotente con cui Zentovic ci fece sentire chiaramente che si sbrigava di noi con la mano sinistra ogni volta gettava solo un'occhiata in apparenza fuggevole alla scacchiera ci guardava con non curanza come se anche noi fossimo morti pezzi di legno e quest'atto impertinente ricordava senza volerlo quello con cui si getta un boccone a un cane rognoso distogliendo gli occhi se avesse avuto un po' di sensibilità avrebbe dovuto secondo me avvertirci dei nostri errori o incoraggiarci con una parola amichevole ma anche dopo la fine della partita questo disumano automa degli scacchi non pronunciò una sillaba ma dopo aver detto scacco matto aspettò immobile davanti al tavolo nel caso che qualcuno gli chiedesse un'altra partita io m'ero già alzato per annunciare con questo gesto sentendomi disarmato come sempre avviene davanti ad una così grossolana insensibilità che almeno da parte mia una volta sbrigato quest'affare di dollari il piacere della nostra conoscenza era terminato quando con mio dispetto mcconnor vicino a me disse con voce molto rauca rivincita mi spaventò addirittura il suo tono di sfida infatti mcconnor in quel momento faceva più l'impressione di un pugile prima dell'attacco che di un cortese gentiluomo fosse lo sgradevole comportamento di zentovic nei nostri confronti o solo il suo amor proprio morbosamente eccitabile in ogni modo l'aspetto di mcconnor era del tutto mutato rosso in faccia fino all'attaccatura dei capelli le narici fortemente contratte dalla tensione interna sudava in modo visibile e dalle labbra serrate una piega profonda si incideva fino al mento proteso bellicosamente nei suoi occhi riconobbi con inquietitudine quella scintilla di sfrenata passione che di solito afferra gli uomini solo al tavolo della roulette quando per la sesta o settima volta composta sempre raddoppiata il colore giusto non esce in quel momento seppi che quell'uomo fanaticamente ambizioso anche se ciò gli fosse costato tutto il suo patrimonio non avrebbe fatto che giocare e giocare e giocare contro zentovic composta semplice o doppia finché non avesse vinto almeno una sola volta una partita se zentovic resisteva aveva trovato in mcconnor una miniera d'oro dalla quale poteva cavare fino a buenos aires un paio di migliaia di dollari zentovic non si mosse prego rispose cortesemente ora i signori giocano col nero la seconda partita offri un quadro immutato solo che il nostro gruppo col sopraggiungere di alcuni curiosi era divenuto non solo più numeroso ma anche più vivace mcconnor guardava fisso alla scacchiera come se volesse magnetizzare i pezzi con la sua volontà di vincere sentivo che avrebbe sacrificato con entusiasmo anche mille dollari per poter gridare con volutà scacco matto sul muso duro dell'avversario era curioso come inconsciamente qualcosa della sua canita eccitazione penetrasse in noi ogni mossa veniva discussa molto più appassionatamente di prima all'ultimo momento ci trattenevamo sempre l'un l'altro prima di accordarci per far segno a zentovic di tornare al nostro tavolo a poco a poco eravamo arrivati alla diciassettesima mossa e con nostra stessa sorpresa era intervenuta una disposizione che sembrava straordinariamente favorevole perché eravamo riusciti a portare il pedone della linea c fino alla penultima casella c2 bastava solo che lo facessimo avanzare fino a c1 per farci guadagnare un'altra regina certo questa chance troppo manifesta non ci rendeva le cose facili sospettavamo concordemente che il vantaggio che avevamo in apparenza ottenuto ci fosse stato offerto a ragion veduta da zentovic il quale certo dominava assai meglio la situazione per prenderci all'amo ma nonostante l'accanire cercare e discutere tutti insieme non riuscimmo a scoprire la finta che teneva in serbo alla fine poco prima che scadesse la pausa di riflessione a noi concessa decidemmo di rischiare la mossa già McConnor stava muovendo il pedone per spostarlo sull'ultima casa quando all'improvviso si sentì afferrare per un braccio e qualcuno gli sussurro piano e con vemenza per l'amor di dio no involontariamente ci voltammo tutti quanti un signore di circa 45 anni il cui volto sottile aguzzo mi aveva colpito già prima sul ponte di passeggio per il suo straordinario pallore quasi gessoso doveva essersi avvicinato a noi negli ultimi minuti quando tutta la nostra attenzione era concentrata sul problema sentendo i nostri sguardi aggiunse in fretta se ora prendete una regina lui la batte subito con l'alfiere C1 e voi ritirate il cavallo ma intanto lui con il suo pedone va in D7 minaccia la vostra torre ed anche se voi date uno scacco col cavallo perdete e dopo 9 o 10 mosse siete finiti è quasi la stessa combinazione ideata da Lecchine contro Bogoliugov nel 1922 nel grande torneo di Pistian McConnor sorpreso lasciò andare il pezzo e fissò non meno stupefatto di tutti noi l'uomo che come un angelo inatteso c'era venuto in aiuto dal cielo uno che poteva calcolare un matto nove mosse prima doveva essere un professionista di prim'ordine forse addirittura un concorrente al titolo mondiale che andava allo stesso torneo e la sua improvvisa apparizione e il suo intervento proprio in un momento così critico avevano qualcosa di quasi soprannaturale McConnor fu il primo a riprendersi e che cosa consiglierebbe sussurrò eccitato non avanzare subito ma prima schivare innanzitutto allontanare il re dalla linea minacciata da G8 a H7 probabilmente lui lancerà allora l'attacco sull'altro fianco ma questo lo parate con la torre C8-C4 gli costerà due tempi un pedone e così anche il vantaggio allora si avrà pedone contro pedone e se vi mantenete bene sulla difensiva potete anche arrivare a far patta di più non si può ottenere ci meravigliamo un'altra volta la precisione non meno della rapidità del suo calcolo aveva qualcosa di sconcertante era come se leggesse le mosse su un libro stampato comunque l'inattesa fortuna di portare al pareggio grazie al suo intervento la nostra partita contro un campione del mondo aveva un effetto magico tutti insieme ci tirammo da parte per consentirgli una visione più completa della scacchiera mcconnor chiese di nuovo sicché il re da g8 in h7 certo innanzitutto schivare mcconnor obbedì e noi battemmo sul bicchiere zentovice venne al nostro tavolo col suo solito passo tranquillo e soppesò con un solo sguardo la contromossa poi trasse sul fianco del re il pedone h2 h4 proprio come il nostro ignoto soccorritore aveva previsto e questi subito mormorò eccitato avanti la torre avanti la torre c8 in c4 lui dovrà prima di tutto coprire il pedone ma non gli servirà a niente voi colpite senza preoccuparvi del suo pedone col cavallo c3 d5 e l'equilibrio è ristabilito tutta la spinta in avanti invece di difendersi non capimmo che cosa intendeva per noi quel che ci diceva era cinese ma ripreso dal suo incantesimo mcconnor mosse senza riflettere come l'uomo gli ordinava picchiamo di nuovo sul bicchiere per richiamare a zentovice per la prima volta questi non prese una decisione rapida ma si soffermò a guardare nervosamente la scacchiera poi fece proprio la mossa che lo sconosciuto ci aveva annunciato e si voltò per andarsene ma prima che si allontanasse avvenne qualcosa di nuovo ed inaspettato zentovic alzò lo sguardo e passò in rassegna le nostre file evidentemente voleva trovare chi gli opponeva ad un tratto una così energica resistenza da quel momento in poi la nostra eccitazione crebbe a dismisura fino allora avevamo giocato senza serie speranze ma ora l'idea di infrangere la fredda superbia di zentovic ci metteva la febbre nelle vene ma già il nostro nuovo amico aveva predisposto la prossima mossa e noi potemmo mi tramavano le dita quando battei il cucchiaio sul bicchiere richiamare zentovic ed allora avvenne il nostro primo trionfo zentovic che fino a quel momento aveva sempre giocato stando in piedi esitò esitò e infine si sedette si sedette con gesto lento e pesante ma così anche in modo puramente fisico era infine eliminato quel rapporto dall'alto in basso fra lui e noi lo avevamo costretto a mettersi almeno dal punto di vista dello spazio sul nostro stesso piano egli riflettè a lungo gli occhi chini e fissi sulla scacchiera sicché non si vedevano quasi più le pupille tra le palpebre scure e nello sforzo del pensiero la bocca gli si apria poco a poco il che dava un'espressione alquanto sempliciotta al suo viso rotondo zentovic riflettè per alcuni minuti poi fece una mossa e si alzò e già il nostro amico mormorava una mossa interlocutoria ben pensata ma non dategli retta forzare lo scambio lo scambio senz'altro allora arriveremo ad impattare e non c'è dio che possa aiutarlo mccon robbedì nelle mosse successive cominciò fra i due noi altri eravamo scaduti da un bel po' al rango di vuote marionette un andiriviene incomprensibile per noi dopo circa sette mosse zentovic dopo una riflessione piuttosto lunga alzò lo sguardo e dichiarò patta per un attimo regnò un completo silenzio ad un tratto si udiva il fruscio delle onde e la radio che dal salone trasmetteva musica jazz si udiva ogni passo sul ponte della nave e il lieve sottile mormorio del vento che entrava dalle commessure delle finestre nessuno di noi respirava era stato troppo improvviso e tutti eravamo addirittura spaventati dal fatto inverosimile che quello sconosciuto avesse saputo imporre la sua volontà al campione del mondo in una partita già quasi perduta mcconnor si rovesciò all'indietro con un gesto repentino il fiato trattenuto gli uscì in modo udibile dalle labbra con un ah di beatitudine io osservai di nuovo zentovic già durante le ultime mosse mi era sembrato che fosse diventato più pallido persisteva nel suo ostentato atteggiamento di rigida indifferenza e si limitò a chiedere con non curanza mentre con la mano spingeva via tranquillamente i pezzi della scacchiera i signori desiderano ancora una terza partita pose la domanda in tono puramente pratico puramente commerciale ma il fatto singolare era che in quel momento non aveva guardato mcconnor bensì aveva alzato lo sguardo diritto e penetrante verso il nostro salvatore come un cavallo riconosce dal portamento più sicuro un nuovo un migliore cavaliere così egli doveva aver riconosciuto dalle ultime mosse il suo vero il suo autentico avversario involontariamente seguimmo il suo sguardo e guardammo coi nervi tesi lo sconosciuto ma prima che questi potesse riflettere o ancora rispondere mcconnor aveva esclamato trionfante eccitato nel suo orgoglio naturalmente ma adesso lei deve giocare da solo contro di lui lei solo contro zentovic allora avvenne qualcosa di imprevisto lo sconosciuto che stranamente continuava a fissare pensieroso la scacchiera già sgombra sussultò quando sentì che tutti gli sguardi erano rivolti verso di lui e lo si interpellava con tanto entusiasmo la sua fisionomia si turbò in nessun caso signori balbettò visibilmente colpito è del tutto escluso io io non centro da 20 no 25 anni non mi sono più seduto davanti a una scacchiera e solo ora mi accorgo in che modo sconveniente mi sono comportato immischiandomi senza il vostro permesso nel gioco vi prego di scusare la mia invadenza certo non voglio disturbarvi oltre e prima che ci riavessimo dallo stupore si era già ritirato ed aveva lasciato la stanza ma è assolutamente impossibile tuonò il bollente mcconnor battendo il pugno è del tutto escluso che quest'uomo non abbia giocato a scacchi per 25 anni ha calcolato ogni mossa ogni contrattacco con 5-6 mosse d'anticipo una cosa del genere nessuno può farla facilmente è del tutto escluso non è vero con l'ultima domanda mcconnor si era rivolto involontariamente a zentovic ma il campione rimase freddo e imperturbabile non posso dare un giudizio su questo ad ogni modo il signore ha giocato in modo alquanto sorprendente interessante perciò gli ho lasciato con intenzione una possibilità alzandosi pigramente aggiunse nel suo stile pratico se il signore o i signori desiderano per domani un'altra partita sono a loro disposizione dalle tre in poi non potemmo reprimere un sorrisetto ognuno di noi sapeva che zentovice non aveva affatto lasciato magnanimo una possibilità al nostro sconosciuto soccorritore e che questa osservazione non era altro che un'ingenua scappatoia per mascherare la propria sconfitta tanto più crebbe il nostro desiderio di vedere umiliata una così incrollabile superbia d'un tratto s'era impadronito di noi pacifici neghittosi croceristi un fiero e ambizioso desiderio di lotta perché il pensiero che proprio sulla nostra nave in mezzo all'oceano potesse venire strappata la palma della vittoria al campione di scacchi un record che sarebbe stato trasmesso in tutto il mondo da tutti gli uffici del telegrafo ci affascinava come un'estrema sfida a questo si aggiungeva la seduzione del mistero che manava dall'inatteso intervento del nostro salvatore proprio nel momento critico e il contrasto fra la sua modestia quasi pavida e l'incrollabile sicurezza di sé del professionista chi era quello sconosciuto il caso aveva forse portato alla luce un genio degli scacchi ancora ignorato oppure un famoso maestro ci nascondeva il suo nome per un motivo imperscrutabile discutemmo con la massima foga tutte queste possibilità anche le ipotesi più bizzarre non ci sembravano abbastanza bizzarre per conciliare l'enigmatica timidezza e la sorprendente confessione dello sconosciuto con la sua innegabile perizia nel gioco ma su una cosa eravamo tutti concordi in nessun caso volevamo rinunciare allo spettacolo di una nuova battaglia decidemmo di far di tutto perché il nostro soccorritore il giorno seguente giocasse una partita contro Zentovic e McConnor si impegnò ad assumere il rischio materiale poiché nel frattempo interrogando lo steward si era venuto a sapere che lo sconosciuto era un austriaco come suo compatriota mi fu affidato l'incarico di sottoporgli la nostra richiesta non mi ci volle molto scovare sul ponte di passeggio l'uomo che se n'era fuggito così in fretta stava sulla sua sedia a sdraio e leggeva prima di avvicinarmi a lui colsi l'occasione di osservarlo la testa angolosa riposava sul cuscino in atteggiamento un po' stanco di nuovo mi colpì in modo particolare lo straordinario pallore del suo volto relativamente giovane con i capelli di un candore abbagliante che incorniciavano le tempie ebbi l'impressione non so perché che l'uomo fosse invecchiato di colpo appena mi accostai a lui si alzò cortesemente e si presentò con un nome che mi fu subito familiare come quello di un'antica estimata famiglia austriaca mi ricordai che uno dello stesso nome aveva appartenuto alla cerchia più intima di Schubert e che anche uno dei medici personali del vecchio imperatore discendeva da questa famiglia quando trasmisi al dottor B la nostra preghiera di accettare la sfida di Zentovic egli rimase visibilmente sballordito risultò che non immaginava neanche di aver tenuto testa con successo in quella partita a un campione mondiale anzi al più brillante al più celebre del momento per qualche motivo tale notizia parve fargli una speciale impressione perché continuò a domandare se ero sicuro che il suo avversario era veramente un campione mondiale riconosciuto capì ben presto che questo fatto facilitava il mio compito solo ritenne opportuno data la sua sensibilità tacergli che il rischio materiale di un'eventuale sconfitta era a carico di McConnor dopo qualche esitazione il dottor B si dichiarò disposto ad un incontro non senza l'esplicita preghiera di avvertire ancora una volta gli altri signori perché non riponessero in alcun modo eccessive speranze nel suo talento perché aggiunse con un sorriso meditabondo non so davvero se sono capace di giocare una partita a scacchi correttamente con tutte le regole la prego di credere che non era falsa modestia quando dicevo che dai tempi del ginnasio più di vent'anni fa non avevo più toccato un pezzo e anche a quel tempo ero considerato semplicemente come un giocatore senza doti particolari disse questo in modo così naturale che non potei nutrire il minimo dubbio sulla sua sincerità ma non potei fare a meno di esprimere la mia meraviglia per l'esattezza con cui ricordava ogni singola combinazione dei diversi campioni comunque almeno per quanto riguardava la teoria doveva essersi occupato molto di scacchi il dottor B sorrise di nuovo in quel curioso modo trassognato molto occupato Dio sa si può ben dirlo che mi sono occupato molto di scacchi ma questo è avvenuto in circostanze speciali anzi assolutamente uniche è una storia piuttosto complicata e potrebbe essere considerata come un piccolo contributo ai bei tempi della nostra grandezza se ha una mezz'ora di tempo aveva indicato la sedia a sdraio vicino a lui accolsi volentieri il suo invito non c'era gente intorno il dottor B si tolse gli occhiali da lettura li mise da parte e cominciò lei è stato così gentile da dirmi che ricordava come viennese il nome della mia famiglia ma presumo che non avrà sentito parlare dello studio legale che dirigevo con mio padre e più tardi da solo perché non trattavamo cause che apparissero sui giornali e per principio evitavamo i clienti nuovi in realtà non praticavamo più l'avvocatura ma ci limitavamo esclusivamente alla consulenza giuridica e soprattutto l'amministrazione patrimoniale dei grandi monasteri cui mio padre era legato come ex deputato del partito clericale inoltre a noi era affidata oggi che la monarchia appartiene alla storia si può ben parlarne l'amministrazione dei fondi di alcuni membri della famiglia imperiale questo rapporto con la corte col clero mio zio era medico personale dell'imperatore un altro era abate Seitenstetten risaliva già due generazioni addietro noi dovevamo solo conservarla ed era una tranquilla una per così dire muta attività quella che ci era toccata in sorte grazie a questo rapporto di fiducia ereditario e non richiedeva molto di più che rigorosissima discrezione e fidatezza due qualità che il mio defunto padre possedeva in massimo grado infatti era riuscito a conservare con la sua prudenza gli ingenti patrimoni dei suoi clienti sia negli anni dell'inflazione sia in quelli della catastrofe quando poi Hitler salì al potere in Germania e cominciò le sue reazzie ai danni dei possedimenti della chiesa e dei monasteri anche dall'altra parte del confine passarono per le nostre mani varie trattative e transazioni per salvare dal sequestro almeno i beni mobili e noi due sapevamo di più su certi segreti affari politici della Curia e della Casa Imperiale di quanto l'opinione pubblica potrà mai conoscere ma proprio il fatto che il nostro ufficio non dava nell'occhio non tenevamo neppure un insegna sulla porta e la prudenza con cui evitavamo entrambi ostentatamente i circoli monarchici offrivano la più sicura protezione da indagini indesiderate in effetti in tutti quegli anni nessuna autorità in Austria ha mai sospettato che i corrieri segreti della Casa Imperiale ritiravano o consegnavano la corrispondenza più importante proprio nel nostro modesto ufficio al quarto piano ora i nazionalsocialisti molto prima che armassero i loro eserciti contro il mondo avevano cominciato ad organizzare un esercito altrettanto pericoloso e addestrato in tutti i paesi confinati la legione dei desiderati dei respinti e degli offesi in ogni ufficio in ogni azienda erano annidate le loro cosiddette cellule le loro vedette le loro spie erano installate dappertutto su su fino nelle stanze private di Dolphys e Schussnik anche nel nostro poco appariscente studio come purtroppo venne a sapere solo molto tardi avevano il loro uomo non era nient'altro che un misero scrivano privo di talento che aveva assunto una raccomandazione di un parroco solo per dare allo studio l'apparenza di un ufficio regolare in realtà lo impiegavamo soltanto per innocenti commissioni lo lasciavamo rispondere al telefono e riordinare i documenti cioè quei documenti che erano completamente indifferenti e non pericolosi non aveva mai il permesso di aprire la posta tutte le lettere importanti le scrivevo io personalmente a macchina senza depositare copie ogni documento essenziale me lo portavo a casa e i colloqui segreti li trasferivo esclusivamente nella prioria del monastero o nella stanza di ricevimento di mio zio grazie a queste misure prudenziali la spia non riuscì a vedere nulla degli affari più importanti ma per un caso disgraziato quel tipo ambizioso e vanesio doveva aver osservato chi si diffidava di lui e che dietro le sue spalle avvenivano ogni sorta di cose interessanti forse una volta in mia assenza uno dei corrieri parlò incautamente di sua maestà invece che del barone Bern come era convenuto oppure il miserabile doveva aver aperto delle lettere disobbedendo agli ordini in ogni modo prima che potessi sospettarlo ricevete da Monaco o da Berlino l'incarico di sorvegliarci solo molto più tardi quando ero in carcere da parecchio tempo mi ricordai che la sua primitiva svogliatezza nel lavoro sarà trasformata negli ultimi mesi in uno zelo improvviso e che più volte sarà offerto in modo quasi importuno di consegnare alla posta la mia corrispondenza quindi devo riconoscermi colpevole di una certa imprudenza ma in fin dei conti anche i più grandi diplomatici e militari non sono stati perfidamente giocati dalla masnade hitleriana con quanta amorevole cura la gestapo mi avesse rivolto da tempo la sua attenzione fu dimostrato poi assai concretamente dal fatto che la stessa sera in cui Shushnik rese note le sue dimissioni e un giorno prima che Hitler entrasse a Vienna io ero già stato arrestato dalle SS per fortuna ero riuscito a bruciare le carte più importanti appena avevo sentito il discorso di congedo di Shushnik e il resto dei documenti con le indispensabili pezze d'appoggio per i valori depositati all'estero dei monasteri e dei due arciduchi li spedì a mio zio proprio all'ultimo minuto prima che i ragazzi mi buttassero giù la porta nascosto in una cesta della biancheria per mezzo della mia vecchia fidata governante il dottor B si interruppe per accendere un sigaro alla luce viva notai che un tremito nervoso gli correva intorno all'angolo destro della bocca cosa che avevo osservato già prima e che come potei constatare si ripeteva ogni due minuti era solo un moto fuggevole non più forte di un alito ma conferiva a tutto il viso una singolare irrequietezza lei ora probabilmente si immagina che le parlerò del campo di concentramento in cui furono trasferiti tutti coloro che tennero fede alla nostra vecchia Austria delle umiliazioni dei tormenti delle torture che ho subito laggiù ma non accadde niente del genere entrai in un'altra categoria non fui trascinato tra quegli infelici sui quali si sfogava con umiliazioni fisiche e psichiche un risentimento a lungo represso bensì venne assegnato a quell'altro ristrettissimo gruppo da cui i nazionalsocialisti speravano di spremere o denaro o di informazioni importanti di per sé la mia modesta persona era naturalmente per quelli della Gestapo del tutto priva di interesse ma dovevano aver saputo che noi eravamo stati gli uomini di paglia gli amministratori e fiduciari dei loro avversari più accaniti e ciò che speravano di cavare da me erano prove a carico prove contro i monasteri cui volevano addebitare sottrazioni di patrimonio prove contro la famiglia imperiale e tutti coloro che in Austria con sacrificio personale avevano difeso la monarchia supponevano e non a torto a verità che di quei fondi che erano passati per le nostre mani si trovassero ancora nascoste inaccessibili alla loro avidità di bottino consistenti somme perciò mi presero fin dal primo giorno per strapparmi questi segreti con i loro metodi collaudati gente della mia categoria da cui bisognava ottenere prove importanti o denaro non veniva quindi spedita in campo di concentramento ma tenuta da parte per un trattamento speciale forse lei ricorda che il nostro cancelliere e dall'altra parte il barone Rothschild da cui parenti essi speravano di spillare milioni non furono affatto messi dietro il filo spinato in un campo di prigionia ma con trattamento in apparenza privilegiato in un albergo questo di per sé ha un'aria molto umana non è vero ma creda pure che se noi gente di riguardo non eravamo stipati a venti per volte in una gelida baracca ma alloggiati in camere d'albergo discretamente riscaldate e separate ci era riservato un metodo non certo più umano ma solo più raffinato infatti la pressione con cui ci volevano strappare il materiale di cui avevano bisogno doveva funzionare in modo più sottile che non quello delle rudi bastonature e della tortura fisica attraverso l'isolamento più perfetto che si è dato a immaginare non ci facevano alcunché ci collocavano solo nel nulla totale perché come è noto nessuna cosa sulla terra esercita una tale pressione sull'anima umana come il nulla chiudendo ciascuno di noi in un vuoto completo in una camera ermeticamente esclusa dal mondo esterno quella pressione invece che dall'esterno con le botte e il freddo doveva essere generata dall'interno e alla fine ci forzava ad aprire la bocca alla prima occhiata la stanza che mi avevano destinato non mi sembrò affatto scomoda aveva una porta un letto una sedia un lavandino una finestra con le sbarre ma la porta restava chiusa giorno e notte sul tavolo non era permesso tenere né un libro né un giornale né un foglio di carta né una matita la finestra dava su un muro spartifuoco intorno al mio io e perfino sul mio stesso corpo era costruito il nulla completo mi avevano tolto ogni oggetto l'orologio affinché perdessi la nozione del tempo la matita perché non potessi scrivere nulla il coltello perché non potessi aprirmi le vene perfino il più piccolo anestetico come una sigaretta mi veniva rifiutato non vedevo mai un volto umano a parte la guardia che non poteva dire una parola né rispondere ad una domanda non sentivo mai una voce umana gli occhi le orecchie tutti i sensi non ricevevano da mattina a sera e da sera a mattina il minimo nutrimento rimanevi disperatamente solo con te stesso col tuo corpo e i quattro o cinque muti oggetti tavolo letto finestra lavandino vivevi come un palombaro sotto una campana di vetro nel buio oceano di questo silenzio anzi come un palombaro già consapevole che il cavo verso il mondo esterno è stato strappato e che non sarà mai più tratto fuori dalle profondità senza suono non c'era niente da fare niente da sentire niente da vedere dappertutto e senza tregua si era circondati dal nulla dal vuoto assoluto senza spazio e senza tempo si camminava su e giù su e giù di continuo ma anche i pensieri per quanto sembrino privi di sostanza hanno bisogno di un punto d'appoggio altrimenti cominciano a ruotare e a girare insensatamente su se stessi anche essi non sopportano il nulla si aspettava qualcosa da mattina a sera e non accadeva niente si aspettava ancora e ancora non accadeva niente si aspettava 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 si pensava pensava si pensava finché dolevano le tempie niente accadeva si restava soli 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 questo durò quindici giorni che io vissi fuori del tempo fuori del mondo se allora fosse scoppiata una guerra non l'avrei saputo il mondo consisteva solo in un tavolo porta letto lavandino sedia finestra e parete e continuavo a fissare la stessa tappezzeria sulla stessa parete ogni linea del suo disegno dentellato è stata incisa come una punta d'acciaio fin nella più riposta piega del mio cervello tanto l'ho fissata allora finalmente cominciarono gli interrogatori si era chiamati e condotti per un paio di corridoi diretti chissà dove poi si aspettava da qualche parte non si sapeva dove e di colpo ci si trovava davanti a un tavolo intorno al quale sedevano un paio di persone in uniforme sul tavolo c'era un pacco di carte gli atti che non si sapeva cosa contenessero e poi cominciavano le domande quelle vere e quelle false quelle chiare e quelle subdole le domande convenzionali a trabocchetto e mentre si rispondeva dita estranei e malevole sfogliavano le carte che non si sapeva cosa contenessero e dita estranei e malevole scrivevano qualcosa in un protocollo e non si sapeva cosa scrivessero ma la cosa più tremenda per me in questi interrogatori fu il non poter indovinare e calcolare che cosa quelli della Gestapo sapessero effettivamente degli affari del mio ufficio e cosa volessero cavare invece da me come le ho detto prima avevo mandato i documenti davvero compromettenti all'ultimo minuto a mio zio tramite la governante ma li aveva ricevuti non li aveva ricevuti e quanto aveva rivelato quello scrivano quante lettere avevano intercettato quanto avevano già forse strappato ad un religioso inesperto nei monasteri tedeschi di cui eravamo i fiduciari e quelli chiedevano e chiedevano quali titoli avevo comprato per il tal monastero con quali banche ero stato in corrispondenza conoscevo o no il signor tal dei tali avevo ricevuto lettera dalla Svizzera e da Steno Kerzel e siccome io non potevo calcolare di quanto già fossero informati ogni risposta diveniva un'enorme responsabilità se ammettevo qualcosa che ancora non conoscevano forse consegnavo qualcuno inutilmente nelle loro mani se negavo troppo danneggiavo me stesso ma l'interrogatorio non era ancora il peggio il peggio era il ritorno dopo l'interrogatorio nel mio nulla nella stessa stanza con lo stesso tavolo lo stesso letto lo stesso lavandino la stessa tappezzeria infatti appena ero solo con me stesso cercavo di ricostruire quale sarebbe stato il modo più astuto di rispondere e che cosa dovevo dire la prossima volta per stornare di nuovo il sospetto che forse avevo fatto sorgere con un'osservazione riflessiva meditavo esaminavo frugavo controllavo da cima a fondo la mia stessa deposizione in ogni parola che avevo detto meditavo esaminavo frugavo frugavo controllavo da cima a fondo la mia stessa deposizione in ogni parola che avevo detto al giudice struttore ricapitolavo ogni domanda che mi avevano posto ogni risposta che avevo dato cercavo di ponderare che cosa avessero potuto verbalizzare e tuttavia sapevo che questo non l'avrei mai potuto calcolare e conoscere ma tali pensieri una volta messi in movimento nello spazio vuoto non smettevano di ruotarmi nel cervello ricominciando sempre da capo in sempre nuove combinazioni e ciò continuava anche nel sonno ogni volta dopo un interrogatorio della Gestapo i miei stessi pensieri riprendevano in modo altrettanto implacabile il martirio di tutto quel chiedere e indagare e tormentare e forse anche più crudelmente perché gli interrogatori finivano comunque dopo un'ora e questi altri mai grazie alla perfida tortura della solitudine e sempre intorno a me solo il tavolo l'armadietto il letto la tappezzeria la finestra non una distrazione non un libro non un giornale non un volto nuovo non una matita per annotare qualcosa non un fiammifero con cui giocare niente 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 solo ora mi accorgevo quanto fosse diabolicamente astuto quanto micidiale dal punto di vista psicologico il sistema della camera ad albergo nel campo di concentramento forse avrei dovuto trasportare sassi fino a farmi sanguinare le mani e gelare i piedi nelle scarpe sarei rimasto a giacere come un fagotto in mezzo a due dozzine di persone nel fetore e nel freddo ma avrei visto dei volti avrei potuto guardare un campo un carro un albero una stella qualunque qualunque cosa mentre qui era sempre uguale quel che avevo intorno sempre uguale spaventosamente uguale qui non c'era nulla che potesse distrarmi dai miei pensieri dalle mie farneticazioni dal mio borboso ricapitolare ed appunto questa era la loro intenzione io dovevo soffocare e soffocare nei miei pensieri finché questi mi avrebbero strangolato ed io non avrei potuto far altro che sputarli e dire dire tutto quel che volevano consegnare infine le prove e gli uomini a poco a poco sentivo che i miei nervi cominciavano a cadere sotto questa tremenda pressione del nulla e consapevole del pericolo tendevo i miei nervi fino allo spasimo per trovare o descogitare una qualche distrazione per tenermi occupato provai a recitare e ricostruire tutto quel che un tempo sapeva a memoria i canti popolari e le filastrocche dell'infanzia e storielle umoristiche del ginnasio i paragrafi del codice civile poi cercai di contare di addizionare cifre a casaccio di dividerle ma la mia memoria nel vuoto non aveva nessuna capacità di ritenere non riuscivo a concentrarmi su niente fra mezzo si insinuava e guizzava sempre lo stesso pensiero che cosa sanno che cosa ho detto ieri che cosa devo dire la prossima volta questa condizione davvero indescrivibile durò quattro mesi bene quattro mesi è facile scriverlo nient'altro che qualche lettera si pronuncia facilmente quattro mesi quattro sillabe in un momento le labbra articolano rapide questo suono quattro mesi ma nessuno può descrivere può misurare può dimostrare né a un altro né a se stesso quanto a lungo duri un periodo nell'assenza di spazio e di tempo e a nessuno si può spiegare come sia divorante e distruttivo questo nulla e nulla e nulla intorno a un uomo quest'esservi sempre e solo tavolo e letto e lavandino e tappezzeria e sempre il silenzio sempre lo stesso custode che senza guardare spinge dentro il pranzo sempre gli stessi pensieri che nel nulla girano intorno ad un'unica cosa finché si diventa pazzi da piccoli segni constatai con inquietudine che il mio cervello stava cadendo in disordine da principio negli interrogatori avevo ancora la mente nitida avevo risposto con calma e ponderazione quel doppio pensiero su che cosa dovevo e non dovevo dire aveva ancora funzionato ora anche le frasi sfuggire al nulla voglio dire tutto voglio riferire tutto voglio dire dove sono i titoli dove sta il denaro dirò tutto tutto per fortuna non mi sentiva più forse anche non voleva sentirmi in quel momento estremo avvenne qualcosa di imprevisto che mi recò la salvezza la salvezza almeno per un certo tempo era la fine di luglio un giorno buio coperto piovoso mi ricordo con esattezza di questo particolare perché la pioggia tamburellava contro i vetri del corridoio attraverso il quale venivo condotto all'interrogatorio nell'anticamera del giudice struttore dovetti aspettare bisognava sempre aspettare ad ogni interrogatorio anche questa attesa apparteneva alla tecnica prima ti facevano tendere i nervi con la chiamata con l'improvviso prelevamento dalla cella a metà della notte e poi quando eri già preparato all'interrogatorio con la ragione e la volontà tese a resistere ti facevano aspettare assurdamente aspettare un'ora due ore tre ore prima dell'interrogatorio per stancare il corpo e fiaccare l'anima e mi fecero aspettare particolarmente a lungo quel giovedì 27 luglio aspettare in piedi nell'anticamera per due ore buone mi ricordo con tanta esattezza anche di questa data per un particolare motivo perché nell'anticamera dove io senza potermi sedere naturalmente dovetti starmene impalato per due ore era appeso un calendario e non so descriverle con quanta avidità di cose stampate di cose scritte continuai a fissare quella cifra quella parola 27 luglio sulla parete le divoravo quasi nel cervello e poi di nuovo aspettai ed aspettai guardando la porta se si aprisse finalmente e intanto riflettevo sulle domande che gli inquisitori mi avrebbero potuto fare questa volta e tuttavia sapevo che mi avrebbero chiesto cose del tutto diverse da quelle cui mi ero preparato ma nonostante tutto il tormento di quell'attendere e stare in piedi era anche un sollievo un piacere perché quella stanza era pur sempre una stanza diversa dalla mia un po' più grande e con due finestre invece di una e senza il letto e senza il lavandino e senza quella particolare fenditura nel davanzale che avevo contemplato milioni di volte la porta era verniciata in modo diverso un'altra sedia stava contro la parete e a sinistra c'era uno schedario con i documenti e anche un guardaroba con alcune stampelle cui erano appesi tre o quattro cappotti militari bagnati i cappotti dei miei torturatori avevo quindi qualcosa di nuovo qualcosa di diverso da guardare finalmente qualcosa di diverso per i miei occhi famelici ed essi si aggrappavano avidi a ogni particolare osservavo ogni piega di quei cappotti notai ad esempio una goccia che pendeva da uno dei colletti umidi e per quanto possa sembrare ridicolo aspettai con assurda eccitazione per vedere se questa goccia alla fine si sarebbe decisa a staccarsi giù lungo la piega o si avrebbe resistito anche contro la forza di gravità e sarebbe rimasta attaccata a lungo sì fissai e fissai per molti minuti trattenendo il fiato quella goccia come se ne andasse della mia vita poi quando infine fu rotolata giù ricominciai a contare i bottoni dei cappotti otto su uno otto sull'altro dieci sul terzo poi di nuovo confrontai i risvolti tutti questi piccoli insignificanti particolari i miei occhi affamati li tastavano li sfioravano li abbracciavano con un'avidità che non riesco ad escrivere ed improvviso il mio sguardo rimase fisso agganciato ad una cosa avevo scoperto che in uno dei cappotti la tasca laterale era un po' rigonfia mi avvicinai e credetti di riconoscere dalla forma rettangolare del rigonfiamento che cosa nascondesse quella tasca un po' prominente un libro cominciarono a tremarmi le ginocchia un libro per quattro mesi non avevo tenuto in mano un libro e già la sola idea di un libro in cui si potessero vedere parole allineate righe pagine e fogli di un libro in cui si potessero leggere seguire accogliere nel cervello pensieri diversi nuovi e stranei capaci di distrarre aveva qualcosa di inebriante e al tempo stesso stupefacente ipnotizzati i miei occhi fissavano la piccola gobba che il libro formava nella tasca ardevano su quell'unico punto quasi invisibile come se volessero forare il cappotto col loro fuoco alla fine non potei contenere la mia bramosia senza volerlo mi spostai più vicino già il pensiero di poter almeno tastare con le mani un libro attraverso la stoffa mi faceva bruciare i nervi delle dita fino alle unghie quasi inconsciamente mi avvicinai sempre di più per fortuna la guardia non fece caso al mio comportamento certo insolito forse gli sembrava naturale che un individuo dopo essere stato in piedi per due ore volesse appoggiarsi un poco alla parete alla fine ero vicinissimo al cappotto e con intenzione avevo messo le mani dietro la schiena perché potessero toccare il cappotto senza parere tastai la stoffa e sentii di fatti attraverso di essa qualcosa di rettangolare qualcosa di flessibile che frusciava leggermente un libro un libro e come un fulmine mi attraversò il pensiero ruba questo libro forse ci riesci e allora potrai nasconderlo nella cella e poi leggere 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 ricominciare a leggere finalmente il pensiero appena penetrò in me operò come un forte veleno ad un tratto cominciarono a ronzarmi le orecchie e il cuore a martellare le mani divennero gelide e non mi obbedivano più ma dopo il primo stordimento mi avvicinai ancora di più cauto e furtivo al cappotto e sempre fissando la guardia con le mani nascoste dietro la schiena spinsi da sotto il libro fuori dalla tasca sempre più su e poi lo afferrai con un gesto lieve prudente e di colpo avevo in mano il piccolo libro non molto ingombrante solo ora mi spaventai per quel che avevo fatto ma non potevo tornare indietro dove l'avrei messo ora mi infilai il volume dietro la schiena sotto i pantaloni nel punto in cui erano trattenuti dalla cintura e da lì piano piano verso i fianchi per poterlo tenere mentre camminavo con la mano militarmente tesa lungo la cucitura dei pantaloni si trattava adesso di far la prima prova mi allontanai un passo due passi tre passi funzionava era possibile tenere fermo il libro mentre camminavo bastava che premessi bene la mano sulla cintura poi venne l'interrogatorio da parte mia richiese una fatica maggiore del solito perché in realtà mentre rispondevo concentravo tutta la mia forza non sulla deposizione ma soprattutto sulla necessità di tener fermo il libro senza che nessuno se ne accorgesse per fortuna questa volta l'interrogatorio fu breve e portai il libro in salvo nella mia stanza non voglio intrattenerla su tutti i particolari perché una volta scivolo giù pericolosamente dai pantaloni in mezzo al corridoio e dovetti simulare un forte attacco di tosse per piegarmi e spingerlo su di nuovo in salvo sotto la cintura ma in compenso che attimo fu quello in cui tornai col libro nel mio inferno finalmente solo eppure non più solo ora lei naturalmente presume che io abbia subito afferrato guardato letto il libro per niente affatto prima volevo pregustare la volutà di avere con me un libro la volutà artificiosamente protratta che mi eccitava con delizia i nervi di fantasticare che specie di libro doveva essere di preferenza quello che avevo rubato stampato molto fitto soprattutto comprendente molte molte lettere molti molti fogli sottili perché avessi da leggere più a lungo e poi mi auguravo che fosse un'opera che mi impegnasse intellettualmente niente di frivolo ma qualcosa che si potesse studiare studiare a memoria poesie e più di tutto che folle sogno Goethe ed Omero ma alla fine non potei trattenere più a lungo la mia brama la mia curiosità sdraiato sul letto affinché il guardiano non mi scoprisse se avesse aperto la porta all'improvviso trassi tremando il libro di sotto la cintura la prima occhiata fu una delusione e addirittura una specie di rabbia esasperata questo libro rubato con così immenso pericolo pregustato con così ardente speranza non era altro che un manuale di scacchi una raccolta di 150 partite magistrali se non fossi stato rinchiuso incarcerato avrei scagliato il libro dalla finestra aperta nel primo impeto di rabbia perché cosa dovevo cosa potevo farmene di quell'assurdità da ragazzo al ginnasio come la maggior parte degli altri ma ero cimentato di quando in quando per noia davanti a una scacchiera ma che mi serviva quella roba teorica non si può giocare a scacchi senza un compagno e men che meno senza pezzi senza scacchiera disgustato sfogliai le pagine per scoprirvi magari qualcosa di leggibile un'introduzione un'istruzione ma non trovai altro che i nudi quadrati diagrammi delle varie partite con sotto dei segni che sulle prime mi apparevano incomprensibili A2 A3 CF1 G3 eccetera tutto ciò mi sembrava una specie di algebra per la quale non trovavo alcuna chiave solo a poco a poco decifrai che le lettere A, B, C stavano per le colonne le cifre da 1 ad 8 per le traverse e determinavano di volta in volta la posizione di ogni singolo pezzo così quei diagrammi puramente grafici acquistavano pur sempre un linguaggio forse riflettei potrei costruirmi nella mia cella una specie di scacchiera e poi cercare di rifare queste partite mi sembrò un segno celeste che il lenzuolo per combinazione avesse un grossolano disegno a quadretti ben piegato alla fine mi fu possibile disporlo in modo da ottenere 64 case perciò innanzitutto nascosi il libro sotto il materasso e strappai la prima pagina poi cominciai a modellare con le briciole risparmiate dalla mia pagnotta i pezzi degli scacchi il re la regina eccetera in modo naturalmente approssimativo e ridicolo dopo infiniti sforzi potei alla fine accingermi a ricostruire sul lenzuolo a quadri le posizioni raffigurate sul libro ma quando cercai di rifare l'intera partita da prima fu un fallimento completo con i miei ridicoli pezzi di mollica di cui per distinguerli avevo scurito una metà con la polvere nei primi giorni mi sbagliavo di continuo per 5 10 20 volte dovetti ricominciare da capo la stessa partita ma chi sulla terra disponeva di tanto tempo inutile e inutilizzato come me lo schiavo del nulla chi possedeva un'avidità ed una pazienza tanto smisurata dopo 6 giorni riuscivo già a terminare in modo impeccabile la partita dopo un'altra settimana non avevo neanche più bisogno delle molliche sul lenzuolo per raffigurarmi le posizioni del libro e dopo un'altra settimana ancora potei fare a meno anche del lenzuolo automaticamente i segni del libro in un primo momento astratti A1 A2 C7 C8 si trasformavano nella mia testa in posizioni visive plastiche la trasposizione era riuscita in modo integrale avevo proiettato la scacchiera con tutti i suoi pezzi verso l'interno e mediante le semplici formule riuscivo a padroneggiare di volta in volta la posizione come un musicista esperto basta una semplice occhiata alla partitura per sentire tutte le voci e la loro armonia dopo altri 15 giorni ero in grado senza alcuna fatica di rifare ogni partita del libro a memoria o come si dice in gergo specialistico alla cieca solo allora cominciai a capire quale immenso beneficio mi avesse arrecato il mio audace furto perché ad un tratto avevo un'attività assurda priva di scopo se vuole ma tale da distruggere il nulla intorno a me con le 150 partite di torneo possedevo un'arma meravigliosa contro l'opprimente monotonia dello spazio e del tempo per mantenere intatto il fascino della nuova occupazione da allora in poi cominciai a suddividere con precisione ogni giornata due partite la mattina due partite il pomeriggio e la sera un'altra rapida ripetizione così la mia giornata che altrimenti si estendeva in forme come una gelatina era piena io ero occupato senza stancarmi perché il gioco degli scacchi possiede il mirabile vantaggio concentrando tutte le energie intellettuali su un campo strettamente delimitato di non stancare il cervello nemmeno con la più intensa attività mentale ma di acuire piuttosto la sua agilità e capacità di concentrazione a poco a poco cominciò dopo le prime ripetizioni puramente meccaniche delle partite dei maestri a risvegliarsi in me una comprensione artistica che mi riempiva di piacere imparai le finezze le malizie e le astuzie nell'attacco e nella difesa mi impadronì della tecnica della previsione della combinazione della risposta e ben presto riconobbi in modo infallibile la nota personale di ogni singolo maestro nella sua condotta individuale così come si riconoscono i versi di un poeta già da poche righe ciò che era iniziato come semplice passatempo divenne un piacere e le figure dei grandi strateghi degli scacchi come Alechine Lasker Bogoliutov Tartakower entrarono come cari compagni nella mia solitudine un'infinita varietà animava ogni giorno la cella silenziosa e proprio la regolarità dei miei esercizi rendeva alla mia capacità di pensiero la sicurezza che era già stata scossa mi sentivo il cervello ringiovanito e quasi rifatto a nuovo dalla costante disciplina mentale che il mio pensiero fosse più chiaro e concentrato si dimostrò soprattutto negli interrogatori senza volerlo m'ero perfezionato sulla scacchiera nella difesa contro le false minacce e i sotterfugi da quel momento in poi non mi scoprì più durante le inchieste e mi parve addirittura che quelli della Gestapo cominciassero a trattarmi a poco a poco con un certo rispetto forse in segreto si chiedevano da quali fonti nascoste dato che vedevano crollare tutti gli altri io solo tra essi la forza per una così impavida resistenza questo periodo felice poiché giocavo le 150 partite del libro sistematicamente ogni giorno durò circa due mesi e mezzo o tre poi inaspettatamente arrivai ad un punto morto all'improvviso ero di nuovo di fronte al nulla infatti dopo aver giocato ogni partita venti o trenta volte essa perdeva il fascino della novità della sorpresa la sua virtù prima così eccitante così suggestiva si esauriva che senso aveva ripetere ancora e ancora delle partite che conoscevo a memoria da un pezzo mossa per mossa appena fatta la prima apertura il suo svolgimento si esrotolava nella mia mente in modo quasi automatico non c'era più nessuna sorpresa nessuna tensione nessun problema per occuparmi per procurarmi l'esercizio e la distrazione che mi erano già diventati indispensabili avrei avuto bisogno veramente di un altro libro con altre partite ma siccome questo era impossibile c'era una sola strada in questo curioso itinerario di follia dovevo escogitare al posto delle vecchie nuove partite dovevo cercare di giocare con me stesso o meglio contro me stesso ora non so fino a che punto lei abbia riflettuto sulla situazione psicologica che viene a crearsi in questo gioco fra i giochi ma già la riflessione più superficiale dovrebbe bastare a rendere evidente che negli scacchi in quanto gioco mentale puro indipendente dal caso voler giocare contro se stessi è logicamente un'assurdità l'attrattiva degli scacchi si basa in fondo sul fatto che la sua strategia si svolge in modo diverso in due cervelli diversi che in questa guerra intellettuale il nero non conosce di volta in volta le manovre del bianco e cerca continuamente di indovinarle e di intralciarle mentre da parte sua il bianco si sforza di superare e parare le mire segrete del nero se bianco e nero formano una sola stessa persona si crea la situazione assurda per cui uno stesso cervello deve sapere e insieme non sapere una certa cosa e funzionando come bianco deve a comando dimenticare completamente ciò che un minuto prima come nero aveva voluto e previsto un simile doppio pensiero presuppone in realtà una totale scissione della coscienza una capacità d'accendere e spegnere a piacere la funzione intellettuale come in un apparecchio meccanico voler giocare contro se stesso costituisce quindi negli scacchi un paradosso come voler saltare sopra la propria ombra insomma a farla breve per mesi ho cercato di realizzare questa assurdità nella mia disperazione ma non avevo altra scelta che questo controsenso per non soccombere alla pura follia o ad un completo marasma spirituale ero costretto dalla mia terribile situazione a tentare perlomeno questa scissione fra un io nero ed un io bianco per non essere soffocato dallo spaventevole nulla che mi circondava il dottor b si appoggiò all'indietro sulla sedia a sdraio e chiuse gli occhi per un minuto sembrava che volesse reprimere con violenza un ricordo sconvolgente di nuovo lo strano tremito che non era in grado di dominare gli percorse l'angolo sinistro della bocca quindi si raddrizzò un poco sulla sedia ecco fino a questo punto spero di averle spiegato tutto in modo comprensibile ma purtroppo non sono affatto sicuro di poterle raffigurare il resto con altrettanta chiarezza infatti questa nuova occupazione richiedeva una così assoluta tensione cerebrale da rendere impossibile nello stesso momento qualunque autocontrollo le ho già accennato che a mio avviso è già di per sé un non senso voler giocare a scacchi contro se stesso ma perfino questa assurdità avrebbe pur sempre una minima possibilità con una vera scacchiera davanti agli occhi perché la scacchiera con la sua concretezza permette in fondo una certa distanza un'estrinsecazione materiale davanti ad una vera scacchiera con veri pezzi si possono intercalare pause di riflessione si può sedere in modo puramente fisico ora da una parte ora dall'altra del tavolo e in tal modo considerare la situazione ora dal punto di vista del nero e ora da quello del bianco ma essendo costretto come ero io a proiettare queste battaglie contro me stesso o se vuole con me stesso in uno spazio immaginario dovevo per forza ritenere chiaramente nella mia coscienza la situazione esistente di volta in volta sulle 64 case e calcolare inoltre non solo la situazione del momento ma anche le possibili mosse ulteriori dei due partner e quindi so come suona assurdo tutto ciò immaginarmi sempre quattro o cinque mosse in anticipo per ognuno dei miei io il bianco e il nero moltiplicate per due per tre no per sei per otto per dodici dovevo mi perdoni se le chiedo di soffermarsi su questa follia giocando nello spazio astratto della fantasia calcolare in anticipo come giocatore bianco quattro o cinque mosse e altrettante come giocatore nero per combinare in anticipo tutte le situazioni che potevano svilupparsi in certo modo con due cervelli col cervello bianco e col cervello nero ma nemmeno quest'autoscissione era l'aspetto più pericoloso nel mio astruso esperimento piuttosto escogitando partite per conto mio mi mancò ad un tratto la terra sotto i piedi e caddi nel vuoto la semplice ripetizione delle partite dei maestri in cui m'ero esercitato nelle settimane precedenti in fondo non era stato altro che un lavoro di riproduzione la pura ricapitolazione di una data materia e in quanto tale non più impegnativa che se avesse imparato a memoria delle poesie o dei paragrafi del codice era un'attività limitata disciplinata e quindi un ottimo esercizio mentale le due partite che giocavo al mattino le due che provavo il pomeriggio rappresentavano un compito ben definito che sbrigavo senza aggiungervi alcuna eccitazione costituivano per me un'occupazione normale e inoltre quando sbagliavo nello svolgimento di una partita o non sapevo andare avanti avevo sempre un punto di riferimento nel libro solo per questo tale attività era stata per i miei nervi scossi così benefica e anzi calmante perché il riprodurre partita altrui non metteva in gioco me stesso che vincesse il bianco o il nero mi era indifferente si trattava in fondo di Alechine o Bogoliugov che lottavano per la palma della vittoria e la mia propria persona la mia ragione la mia anima godevano le peripezie e le bellezze di queste partite solo come spettatori come intenditori ma dal momento in cui cercai di giocare contro me stesso cominciai senza volerlo a provocarmi ognuno dei miei due io l'io nero e l'io bianco dovevano gareggiare fra loro ed ognuno per proprio conto caddero in preda a un'ambizione un'impazienza di vincere di avere la meglio come io nero tremavo ad ogni mossa nell'incertezza di ciò che avrebbe fatto l'io bianco ognuno dei miei due io trionfava se l'altro commetteva un errore e al tempo stesso si amareggiava per la propria incapacità tutto questo sembra privo di senso e in realtà una simile schizofrenia artificiale una tale spaccatura della coscienza col suo tributo di pericolosa eccitazione sarebbe impensabile in un uomo normale in circostanze normali ma lei non deve dimenticare che ero stato strappato con la violenza ad ogni normalità che ero un prigioniero incarcerato senza colpa sottoposto da mesi alla raffinata tortura della solitudine un uomo che da un pezzo avrebbe voluto scaricare contro qualcosa la rabbia accumulata e poiché non avevo nient'altro che questo gioco insensato contro me stesso il mio furore la mia sete di vendetta si riversarono fanaticamente in questo gioco qualcosa in me voleva aver ragione e avevo solo quest'altro io dentro di me da poter combattere così mi esasperavo durante il gioco in un'eccitazione quasi maniacale all'inizio riflettevo ancora con calma e ponderazione inserivo delle pause fra l'una e l'altra partita per ristorarmi della fatica ma poco a poco i miei nervi irritati non mi permisero più di aspettare appena il mio io bianco aveva fatto una mossa il mio io nero si gettava febbrilmente all'attacco appena una partita era terminata subito sfidavo me stesso alla prossima perché ogni volta uno dei due io giocatori era vinto dall'altro e chiedeva la rivincita non potrò mai dire neppure con approssimazione quante partite abbia giocato contro me stesso negli ultimi mesi nella mia cella a causa di questa folle insaziabilità forse mille forse di più era un'ossessione da cui non potevo difendermi da mattina a sera non pensavo altro che ad alfieri e pedoni e torre e re a e b e c e d matto ed arrocco con tutto il mio essere il mio sentimento era spinto verso il quadrato della scacchiera il piacere del gioco era diventato vizio il vizio necessità una mania una rabbia frenetica che a poco a poco penetrò non solo le ore in cui ero sveglio ma anche il mio sonno potevo pensare solo agli scacchi solo in termini di mosse di scacchi problemi di scacchi qualche volta mi svegliavo con la fronte madida e capivo d'aver inconsciamente continuato a giocare anche nel sonno e quando sognavo esseri umani me li raffiguravo soltanto nei movimenti dell'alfiere della torre nell'avanti e indietro della mossa del cavallo anche quando venivo chiamato per l'interrogatorio non potevo più pensare nitidamente alla mia responsabilità ho la sensazione d'essermi espresso nelle ultime udienze in modo piuttosto confuso perché gli inquisitori talvolta si guardavano sconcertati ma in realtà mentre interrogavano e si consultavano nella mia sciagurata bramosia attendevo solo d'essere ricondotto in cella per continuare il gioco il mio folle gioco un'altra partita e un'altra e un'altra ogni interruzione mi disturbava perfino il quarto d'ora in cui il guardiano rassettava la mia prigione i due minuti in cui mi portava il cibo erano un tormento per la mia febbrile impazienza talvolta la sera la ciotola del pranzo era ancora intatta durante il gioco avevo dimenticato di mangiare l'unica sensazione fisica era una sete terribile doveva essere la febbre di quel continuo pensare e giocare vuotavo la bottiglia in due sorsi e tormentavo il guardiano per averne un'altra ma subito dopo mi sentivo la lingua già asciutta in bocca infine la mia eccitazione aumentava durante il gioco e non facevo altro dalla mattina alla sera a tal punto che non riuscivo più a star seduto tranquillo un momento mentre meditavo le partite andavo ininterrottamente su e giù sempre più in fretta e più in fretta e più in fretta su e giù su e giù e sempre più eccitato a mano a mano che si avvicinava il momento decisivo della partita la brama di avere la meglio di vincere di vincere me stesso diventava poco poco una specie di furore tremavo di impazienza perché ogni volta uno degli io giocatori dentro di me era troppo lento per l'altro l'uno incalzava l'altro per quanto ciò possa parerle ridicolo cominciavo a insultare me stesso più svelto più svelto o avanti avanti quando uno dei miei io non replicava abbastanza rapidamente all'altro come è naturale oggi mi sembra del tutto evidente che la mia condizione era una pura forma patologica di sovreccitazione spirituale per la quale non trovo altro nome che questo finora sconosciuto alla medicina un abbelenamento da scacchi infine questa ossessione monomaniaca cominciò ad attaccare non solo il mio cervello ma anche il mio corpo dimagrivo dormivo sonni inquieti e turbati ogni volta al risveglio dovevo fare uno sforzo particolare per sollevare le palpebre di piombo talvolta mi sentivo così debole che quando afferravo un bicchiere lo portavo solo con fatica alle labbra tanto mi tramavano le mani ma appena il gioco incominciava una forza selvaggia mi invadeva correvo su e giù con i pugni stretti e come attraverso una rossa nebbia sentivo ogni tanto la mia voce che gridava a se stessa rauca e cattiva scacco o matto come questa tremenda questa indescrivibile situazione sia giunta alla crisi neanch'io riesco ricostruirlo tutto quel che so è che una mattina mi svegliai e fu un risveglio diverso dal solito il mio corpo era come staccato da me riposavo dolcemente con un senso di benessere una stanchezza densa e buona quale non avevo più conosciuto da mesi gravava sulle mie palpebre gravava su di esse così calda e benefica che sulle prime non potei decidermi ad aprire gli occhi per diversi minuti già qui sveglio a godermi ancora quel pesante stordimento quel tiepido crogiolarmi coi sensi voluttuosamente assopiti d'un tratto mi parve di sentire dietro di me delle voci vive voci umane che dicevano parole e lei non può immaginare il mio entusiasmo perché da mesi da quasi un anno non avevo sentito altre parole che quelle dure aspre e cattive dal banco dei giudici tu sogni mi dissi sogni non aprire assolutamente gli occhi lascia che duri ancora questo sogno altrimenti vedrai di nuovo intorno a te la maledetta cella la sedia e il lavandino e la tappezzeria con lo stesso eterno disegno tu sogni continua a sognare ma la curiosità ebbe il sopravvento lento e cauto aprì gli occhi e meraviglia era un'altra stanza era un'altra stanza quella in cui mi trovavo una stanza più larga più spaziosa della cella in albergo una finestra senza sbarre lasciava entrare liberamente la luce e la vista degli alberi alberi verdi ondeggianti al vento invece dell'immobile muro spartifuoco bianche e lisce splendevano le pareti bianco e alto mi sovrastava il soffitto davvero giacevo in un letto nuovo estraneo e veramente non era un sogno dietro di me sussurravano lievi delle voci umane senza volerlo nella mia sorpresa dovetti fare un movimento brusco perché subito udì dietro di me un passo che si avvicinava una donna stava arrivando con un'agile andatura una donna con una cuffia bianca sui capelli un'infermiera una suora un brivido di felicità mi colse da un anno non vedevo una donna fissai la divina apparizione e deve essere stato uno sguardo selvaggio e statico perché colei che mi si avvicinava mi calmò immediatamente con un tranquillo resti tranquillo ma io ascoltavo soltanto la sua voce era proprio un essere umano che parlava davvero esisteva ancora sulla terra una persona che non mi inquisiva non mi intormentava e per giunta inconcepibile miracolo una morbida calda quasi tenera voce di donna fissava avidamente la sua bocca perché in quell'anno d'inferno era diventato per me inverosimile che un essere umano parlasse ad un altro con bontà ella mi sorrise sì sorrise c'erano ancora persone che sapevano sorridere con benevolenza poi portò il dito alle labbra in un gesto di ammonimento e passò oltre leggera ma io non potevo obbedire al suo ordine non mi ero ancora saziato di guardare il miracolo con impeto cercai di sollevarmi sul letto per seguirla con lo sguardo per seguire il miracolo di un essere umano capace di bontà ma quando vogli sostenermi a bordo del letto non ci riuscì dove un tempo era la mia mano destra dita e polso sentivo qualcosa di estraneo un regonfiamento spesso grosso bianco senza dubbio una larga fasciatura da prima fissai senza capire quella cosa bianca spessa estranea sulla mia mano poi cominciai lentamente a comprendere dove ero e a riflettere su cosa poteva essermi capitato dovevano avermi ferito oppure mi ero fatto dal male da solo alla mano mi trovavo in un ospedale a mezzogiorno venne il medico un signore anziano e gentile conosceva il nome della mia famiglia e menzionò con tanto rispetto mio zio il medico personale dell'imperatore che subito ebbi la sensazione di essere nelle sue grazie in seguito mi fece una quantità di domande soprattutto una che mi stupì se ero un matematico o un chimico dissi di no strano mormorò nel delirio lei gridava sempre delle formule curiose c3 c4 nessuno di noi ci si raccapezzava mi informai su che cosa mi fosse accaduto egli sorrise in modo singolare niente di serio un'irritazione acuta dei nervi ed aggiunse piano dopo essersi guardato intorno con prudenza un fondo molto comprensibile dal 13 marzo non è vero a noi non c'è da meravigliarsi con quel metodo mormorò lei non è il primo ma non si preoccupi dal modo con cui mi sussurrò queste parole tranquillizzanti e dal suo sguardo benevolo capì che presso di lui ero ben protetto due giorni dopo il buon dottore mi spiegò con una certa franchezza che cosa era accaduto la guardia mi aveva sentito gridare forte nella mia cella e sulle prime aveva creduto che fosse entrato qualcuno e che litigasse con me ma appena si era mostrato sulla porta mi ero gettato su di lui e l'avevo aggredito con grida selvagge che suonavano come muovi un'altra volta ma scalzone vigliacco avevo cercato di afferrarlo alla gola e alla fine l'avevo colpito con tanta furia che aveva dovuto chiamare aiuto quando poi nel mio stato di frenesia mi avevano portato alla visita medica all'improvviso mi ero sciolto mi ero slanciato verso la finestra dal corridoio avevo fracassato il vetro e così mi ero tagliato la mano può vedere ancora qui la profonda cicatrice le prime notti all'ospedale le avevo trascorse in una specie di febbre cerebrale ma ora a suo avviso il mio apparato sensorio sarà del tutto rischiarato certo aggiunse a bassa voce preferirei non dirlo a quei signori altrimenti alla fine la riportano un'altra volta laggiù si fidi di me farò del mio meglio che cosa abbia detto di me il soccorrevole medico ai miei carnefici non l'ho mai saputo ad ogni modo ottenne quel che voleva il mio rilascio può essere che mi abbia dichiarato irresponsabile o forse nel frattempo ero diventato poco importante per la Gestapo perché Hitler aveva già occupato la Bohemia e quindi il caso dell'Austria per lui era sbrigato così mi restò solo da firmare l'impegno di lasciare la patria entro 15 giorni e questi 15 giorni furono tanto riempiti dalle mille formalità che oggigiorno sono richieste all'ex cittadino del mondo per un viaggio all'estero documenti militari polizia tasse passaporto visto certificato sanitario che non ebbe il tempo di meditare molto sul passato a quanto pare nel nostro cervello agiscono forze misteriosamente regolatrici che cancellano in modo automatico ciò che può diventare fastidioso e pericoloso per l'anima perché sempre quando volevo ripensare al mio periodo di prigionia in qualche modo nel mio cervello si spegneva la luce solo dopo settimane e settimane proprio qui sulla nave ritrovai il coraggio di ricordare che cosa mi era accaduto ed ora comprenderà perché mi sono comportato in maniera così sconveniente e probabilmente incomprensibile di fronte ai suoi amici girovagavo per puro caso nel salone quando vidi i suoi amici che sedevano davanti alla scacchiera senza volerlo mi sentì come inchiodato dallo stupore e dallo spavento infatti avevo totalmente dimenticato che si può giocare a scacchi davanti a una vera scacchiera e con veri pezzi dimenticato che in questo gioco siedono l'uno di fronte all'altro fisicamente due uomini del tutto diversi mi ci vollero davvero un paio di minuti per ricordare che il gioco condotto da quei giocatori era in fondo lo stesso che nella mia disperazione avevo tentato contro me stesso per mesi le cifre con cui mi aiutavo durante i miei rabbiosi esercizi erano solo un surrogato ed un simbolo dei pezzi d'avorio la mia meraviglia perché i movimenti dei pezzi sulla scacchiera erano identici a quelli delle mie fantasticherie immaginarie nello spazio mentale poteva somigliare forse allo stupore di un astronomo che con metodi complicati abbia calcolato sulla carta l'esistenza di un nuovo pianeta e poi lo veda davvero nel cielo come una stella splendente chiara e reale fissavo come magnetizzato la scacchiera e vi scorgevo i miei diagrammi cavallo torre re regina e pedoni come pezzi concreti intagliati nel legno per avere una visione d'insieme della partita dovetti prima involontariamente trasporla dal mondo delle mie cifra stratte in quello dei pezzi mossi dai giocatori a poco a poco mi prese la curiosità di osservare un simile gioco reale fra due partner e allora avvenne quell'episodio penoso quando dimentico di ogni urbanità mi mischiai nella vostra partita ma la mossa falsa del suo amico mi colpì come una pugnalata al cuore fu per un puro moto istintivo che lo tratteni un gesto impulsivo come quando senza riflettere si afferra un bambino che si sporge da un parapetto solo più tardi mi apparve evidente la grossolana scortesia di cui mi ero reso colpevole con la mia invadenza mi affrettai ad assicurare al dottor B che tutti eravamo ben lieti di dovere a questa combinazione il piacere della sua conoscenza e che per me sarebbe stato doppiamente interessante dopo tutto ciò che mi aveva raccontato poterlo seguire l'indomani nell'improvvisato torneo il dottor B fece un gesto inquieto no non si aspetti troppo veramente per me non sarà altro che una prova una prova se io se sono in grado semplicemente di giocare una normale partita a scacchi una partita su una vera scacchiera con veri pezzi e un compagno in carne e ossa perché continuo a dubitare che quelle centinaia e forse migliaia di partite che ho giocato fossero davvero partite regolari e non solo una specie di sogno di febbre un gioco febbrile in cui come sempre nei sogni venivano saltati i gradini intermedi spero che non mi attribuisca sul serio la presunzione di tener testa ad un campione di scacchi anzi al primo del mondo quel che mi interessa e mi soddisfa è unicamente la curiosità postuma di accertare se quello della prigione era ancora il gioco degli scacchi o era già follia se a quel tempo io mi trovavo ancora per un pelo al di qua o se ero già al di là del pericoloso scoglio soltanto questo davvero dall'estremità della nave risuonò in quel momento il gong che chiamava cena probabilmente il dottor B mi aveva raccontato tutto in modo assai più particolareggiato di quanto io l'abbia riassunto qui avevamo chiacchierato per quasi due ore lo ringraziai di cuore e mi congedai ma non aveva ancora attraversato la coperta che egli già mi inseguiva aggiungendo nervosamente e addirittura con un certo balbettio un'altra cosa vuole per piacere informare fin da adesso i signori perché poi io non sembri essere scortese giocherò un'unica partita non sarà altro che il saldo finale di un vecchio conto una chiusura definitiva e non un nuovo inizio non vorrei cadere una seconda volta in quella appassionata febbre del gioco cui posso ripensare solo con orrore e dal resto dal resto allora anche il medico mi ha ammonito esplicitamente ammonito chiunque sia caduto in preda ad una mania resta sempre compromesso e quando si tratta di un abbelenamento da scacchi sia pure del tutto guarito è meglio non avvicinarsi ad una scacchiera sicché lei comprende solo questa partita di prova per me stesso e nient'altro il giorno seguente puntualmente allora stabilita le tre eravamo riuniti nel salone da fumo il nostro circolo si era arricchito di altri due amatori del gioco regale due ufficiali della nave che avevano chiesto un permesso dal servizio di bordo per poter assistere all'incontro anche zentovic non si fece aspettare come il giorno prima e dopo l'abituale scelta dei colori cominciò la memorabile partita dell'homo obscurissimus contro il famoso campione del mondo mi dispiace che sia stata giocata solo per noi spettatori del tutto incompetenti e che il suo svolgimento sia andato perduto per gli annali della scacchistica come le improvvisazioni pianistiche di beethoven per la musica nei pomeriggi seguenti cercammo è vero di ricostruire insieme la partita a memoria ma in vano probabilmente durante il gioco avevamo seguito con troppa passione i giocatori anziché l'andamento della partita infatti il contrasto spirituale dell'habitus dei due avversari divenne nel corso della partita sempre più plastico più concreto zentovic il praticone rimase per tutto il tempo immobile come un masso gli occhi strenuamente fissi sulla scacchiera la riflessione appariva in lui come uno sforzo addirittura fisico che costringeva tutti i suoi organi ad un'estrema concentrazione il dottor B invece si muoveva del tutto disteso e disinvolto come il vero dilettante nel senso migliore del termine che nel gioco vede solo il gioco che procura diletto teneva il corpo completamente rilassato durante le prime pause chiacchierava con noi dando spiegazioni si accendeva con gesto agile una sigaretta e si limitava quando veniva il suo turno a guardare per un minuto la scacchiera ogni volta sembrava che si fosse aspettato in anticipo la mossa dell'avversario le solite mosse d'apertura si svolsero abbastanza in fretta solo alla settima o all'ottava sembrò svilupparsi qualcosa di simile a un piano preordinato Zentovic allungò le sue pause di riflessione da questo ci accorgemmo che cominciava la vera battaglia per passare in vantaggio ma ad onor del vero il graduale sviluppo della situazione come ogni vera partita di torneo fu per noi profani una discreta delusione infatti più i pezzi si intrecciavano fra loro in un singolare arabesco più impenetrabile diventava per noi l'andamento effettivo non potevamo distinguere né le intenzioni di un avversario né quelle dell'altro e chi dei due si trovasse davvero in vantaggio osservamo soltanto che i singoli pezzi si spostavano come leve per forzare il fronte avversario ma non riuscivamo poiché ogni movimento di quei due formidabili giocatori era combinato con parecchie mosse di anticipo ad afferrare l'intento strategico di tutto quell'anni rivieni a ciò si accompagnava a poco a poco una stanchezza paralizzante causata soprattutto dalle interminabili pause di riflessione di Zentovic le quali cominciarono ad irritare in modo visibile anche il nostro amico notai con preoccupazione che egli più la partita si prolungava più cominciava ad agitarsi irrequieto sulla sedia ora accendendosi una sigaretta dopo l'altra per il nervosismo ora afferrando la matita per annotare qualcosa poi di nuovo ordinava dell'acqua minerale di cui trangugiava in fretta bicchieri su bicchieri era evidente che combinava le mosse cento volte più rapidamente di Zentovic ogni volta che questi si decideva dopo un'interminabile riflessione a spingere avanti un pezzo con la sua mano pesante il nostro amico sorrideva come chi vede accadere qualcosa che si aspettava da un pezzo e replicava prontamente doveva aver calcolato in precedenza nel suo cervello che lavorava così in fretta tutte le possibilità dell'avversario perciò più la decisione di Zentovic si protraeva più cresceva la sua impazienza e intorno alle labbra gli si imprimeva durante l'attesa una piega collerica quasi ostile ma Zentovic non si lasciava affatto incalzare rifletteva muto ed ostinato e faceva pause sempre più lunghe man mano che le case si vuotavano dei pezzi alla quarantaduesima mossa dopo più di due ore e tre quarti sedevamo tutti ormai stanchi e quasi indifferenti intorno al tavolo dell'incontro uno degli ufficiali della nave si era allontanato un altro aveva preso un libro e lo leggeva e dava solo un'occhiata per un attimo quando c'era qualche cambiamento ma poi di colpo avvenne qualcosa di inaspettato a una mossa di Zentovic appena il dottor B osservò che Zentovic prendeva il cavallo per farlo avanzare si raggomitolò su se stesso come un gatto prima del salto tutto il suo corpo cominciò a tremare ed appena Zentovic ebbe mosso il cavallo spinse avanti bruscamente la regina disse ad alta voce trionfante ecco fatto si appoggiò all'indietro incrociò le braccia sul petto e guardò Zentovic con espressione di sfida una luce ardente gli brillò d'un tratto nelle pupille involontariamente ci chinammo sulla scacchiera per capire la mossa annunciata in tono così trionfale sul primo momento non era visibile nessuna minaccia diretta le parole del nostro amico si dovevano perciò riferire ad uno sviluppo che noi dilettanti di corto cervello non eravamo ancora in grado di prevedere Zentovic era l'unico fra noi che non si fosse mosso a quell'annuncio provocatorio stava seduto impassibile come se non avesse affatto sentito quell'offensivo ecco fatto non avvenne nulla poiché tutti involontariamente trattenevamo il fiato si sentì d'un tratto il ticchettio dell'orologio che era stato messo sul tavolo per controllare il tempo delle mosse passarono tre minuti sette minuti otto minuti Zentovic non si muoveva ma mi parve che le sue narici spesse come per uno sforzo interno si allargassero ancora di più al nostro amico questa muta attesa sembrava intollerabile come a noi con mossa brusca si alzò all'improvviso e cominciò ad andare su e giù per il salone da fumo prima lentamente poi sempre più in fretta tutti lo guardavamo un po' meravigliati ma nessuno più inquieto di me perché mi colpì il fatto che i suoi passi nonostante l'impetuosità di quell'anni rivieni misuravano sempre il medesimo spazio era come se ogni volta in mezzo alla stanza vuota urtasse contro una barriera invisibile che lo costringeva a tornare indietro e con un brivido capì che quell'andar su e giù riproduceva inconsciamente l'estensione della sua vecchia cella proprio così doveva aver camminato avanti e indietro nei mesi della sua reclusione come un animale imprigionato in gabbia con le mani serrate convulsamente allo stesso modo rannicchiato nelle spalle così e solo così doveva esser corso mille volte su e giù le rosse luci della follia nello sguardo fisso eppur febbrile ma la sua capacità intellettuale sembrava ancora completamente intatta perché ogni tanto si volgeva con impazienza verso il tavolo per vedere se Zentovic nel frattempo si fosse deciso ma passarono nove passarono dieci minuti poi infine accadde ciò che nessuno di noi aveva previsto Zentovic alzò lentamente la sua grossa mano che finora era rimasta inerte sul tavolo eccitati guardavamo tutti alla sua decisione Zentovic non fece alcuna mossa ma il dorso della sua mano spinse via lentamente con un gesto deciso tutti i pezzi dalla scacchiera ci volle un momento perché capissimo Zentovic aveva rinunciato alla partita aveva capitolato per non subire davanti a noi tangibilmente lo scacco matto l'inverosimile si era avverato il campione mondiale l'eroe di innumerevoli tornei aveva abbassato la bandiera davanti ad uno sconosciuto un uomo che da 20 o 25 anni non toccava più la scacchiera il nostro amico l'anonimo l'ignoto aveva vinto in aperta battaglia il più forte giocatore di scacchi del mondo senza accorgercene nella nostra eccitazione eravamo balzati in piedi l'uno dopo l'altro ognuno di noi aveva la sensazione di dover dire o fare qualcosa per sfogare il suo lieto sgomento l'unico a restare tranquillo e immobile era Zentovice solo dopo una pausa misurata alzò il capo e guardò il nostro amico con occhi di pietra un'altra partita chiese naturalmente rispose il dottor B con un entusiasmo che non mi piacque ed ancora prima che potessi ricordargli il suo proposito di limitarsi ad una sola partita si sedette subito e cominciò con fretta febbrile a rimettere a posto i pezzi le accostava con tanto impeto che per due volte un pedone scivolò a terra dalle sue dita tremanti il mio disagio di fronte alla sua innaturale eccitazione già prima penoso crebbe fino ad una specie di angoscia infatti una visibile esaltazione aveva afferrato quell'uomo prima così calmo e tranquillo il tremito gli correva più frequente intorno alla bocca e il suo corpo tremava come scosso da una febbre improvvisa no gli sussurrai piano non adesso basta per oggi è troppo faticoso per lei faticoso? rise forte con cattiveria avrei potuto giocare 17 partite in tutto questo tempo invece di ciondolare così faticoso per me è solo non addormentarmi a questo ritmo insomma cominci una buona volta queste ultime parole le aveva rivolte a Zentovic in tono brusco quasi villano egli lo guardò calmo e misurato ma il suo sguardo di pietra assomigliava a un pugno chiuso ad un tratto ci fu qualcosa di nuovo fra i due giocatori una pericolosa tensione un odio appassionato non erano più due partner che volessero provare per gioco il loro talento l'uno contro l'altro erano due nemici che avevano giurato di distruggersi a vicenda Zentovic esitò a lungo prima di far la prima mossa ed ebbi la chiara sensazione che esitasse così a lungo di proposito evidentemente il tattico esperto aveva già capito che proprio con la sua lentezza stancava e irritava l'avversario così restò in sospeso non meno di quattro minuti prima di fare la più normale la più semplice delle aperture muovendo delle solite due case il pedone di re subito il nostro amico gli andò incontro col suo pedone di re ma di nuovo Zentovic fece una pausa interminabile quasi insopportabile era come quando cade giù un gran fulmine e si attende il tuono con cuore in tumulto e il tuono non si decide a venire Zentovic non si muoveva rifletteva calmo lento e come avvertivo con sempre maggior sicurezza malignamente lento ma in tal modo mi dava molto tempo per osservare il dottor B egli aveva appena traccannato il terzo bicchier d'acqua senza volerlo ricordai che mi aveva raccontato della sua sete febbrile quando era in cella tutti i sintomi di un'anomala eccitazione risultavano evidenti vidi la sua fronte inumidirsi e la cicatrice sulla mano diventar più rossa e rilevata di prima ma si dominava ancora solo quando alla quarta mossa Zentovic cominciò un'altra riflessione interminabile perdette il controllo insomma si decide a giocare Zentovic alzò freddamente lo sguardo a quanto mi risulta ci siamo accordati su dieci minuti di tempo per ogni mossa per principio io non gioco con tempi più brevi il dottor B si morse le labbra osservai che sotto il tavolo picchiava sempre più inquieto con la suola della scarpa contro il pavimento e anch'io divenni di un nervosismo sempre più incontenibile per l'angoscioso presentimento che in lui si stesse preparando qualche pazzia infatti all'ottava mossa avvenne un altro incidente il dottor B che aveva atteso con sempre maggiore irrequietezza non poteva più trattenere la sua tensione si agitava qua e là e cominciò involontariamente a tamburellare con le dita sul tavolo Zentovic alzò di nuovo la sua grossa testa di contadino posso pregarla di non tamburellare mi disturba così non posso giocare fece il dottor B con una breve risata si vede la fronte di Zentovic si arrossò cosa vuole dire con questo chiese secco ed irritato il dottor B fece un'altra risata maligna niente solo che lei evidentemente è molto nervoso Zentovic tacque e piegò la testa solo dopo sette minuti fece la mossa successiva e la partita si trascinò con questo ritmo mortale Zentovic per così dire si impietriva sempre più alla fine utilizzò sempre il massimo della pausa di riflessione convenuta prima di decidersi a fare una mossa e da un intervallo all'altro il comportamento del nostro amico divenne sempre più singolare sembrava che non si interessasse più alla partita ma fosse occupato in tutt'altro rinunciò al suo impaziente passeggiar su e giù e rimase seduto immobile al suo posto fissando il vuoto davanti a sé con sguardo ostinato e quasi folle mormorava ininterrottamente fra sé parole incomprensibili o si perdeva in infinite combinazioni oppure elaborava tale era il mio sospetto intimo partite affatto diverse perché ogni volta quando Zentovic aveva finalmente mosso bisognava scuoterlo dalla sua distrazione allora aveva bisogno di un minuto per accapezzarsi nella situazione sempre più mi afferrava il sospetto che davvero avesse dimenticato da un pezzo Zentovic e tutti noi in questa fredda forma di pazzia che all'improvviso poteva sfogarsi in qualsiasi violenza ed in effetti la crisi scoppiò alla diciannovesima mossa appena Zentovic ebbe mosso il suo pezzo il dottor B all'improvviso senza guardar bene la scacchiera fece avanti il suo alfiere di tre case e gridò così forte che tutti noi sobbalzammo scacco scacco al re guardammo subito verso la scacchiera aspettandoci una mossa speciale ma dopo un minuto avvenne ciò che nessuno di noi si sarebbe atteso Zentovic alzò lentamente lentissimamente il capo e guardò cosa che non aveva mai fatto fino allora tutti quelli del nostro gruppo uno per uno sembrava godersela in modo straordinario perché a poco a poco cominciò a disegnarsi sulle sue labbra un sorriso soddisfatto e chiaramente ironico solo dopo aver assaporato fino all'ultima goccia questo suo trionfo ancora incomprensibile per noi si rivolse con falsa cortesia al nostro circolo spiacente ma non vedo alcuno scacco forse uno dei signori vede uno scacco contro il mio re guardammo la scacchiera e poi preoccupati il dottor B la casa del re di Zentovici infatti un bambino poteva capirlo era completamente protetta da un pedone contro l'alfiere sicché non era possibile alcuno scacco al re divenimmo inquieti forse il nostro amico nel suo impeto aveva sbagliato a muovere un pezzo una casa troppo in là o troppo in qua insospettito dal nostro silenzio ora anche il dottor B fissò la scacchiera e cominciò a balbettare agitato ma ma il re è in F7 è sbagliato tutto sbagliato lei ha sbagliato a muovere tutto è completamente sbagliato su questa scacchiera il pedone è in G5 e non in G4 questa è una partita tutta diversa e si fermò di colpo io gli avevo afferrato il braccio con forza o meglio gli avevo artigliato il braccio così duramente che perfino nel suo febbrile smarrimento doveva sentire la mia stretta si voltò e mi fissò come un sonnambulo che cosa vuole? gli dissi soltanto rimemba e allo stesso tempo passai un dito sulla cicatrice della sua mano seguì involontariamente il mio gesto il suo occhio vitreo si fermò sulla striscia purpurea poi all'improvviso cominciò a tremare e un brivido gli corse per tutto il corpo per amor di Dio sussurrò con le labbra smorte ho detto ho fatto qualcosa di pazzesco alla fine sono di nuovo no sussurrai appena ma deve interrompere subito la partita è tempo si ricordi di che cosa le ha detto il medico il dottor B si alzò di colpo la prego di scusarmi per il mio stupido errore disse con la sua solita voce gentile e si inchinò davanti a Zentovice naturalmente quel che ho detto è una pura assurdità è sottointeso che la partita è sua poi si rivolse a noi devo pregare anche i signori di scusarmi ma li avevo già avvertiti in anticipo che non dovevano aspettarsi troppo da me perdonino questa figura ridicola e sarà l'ultima volta che mi cimento negli scacchi si inchinò e se ne andò nello stesso modo discreto e misterioso in cui era apparso solo io sapevo perché quell'uomo non avrebbe mai più toccato una scacchiera mentre gli altri rimasero un po' confusi con l'oscura sensazione di essere sfuggiti per un pelo a qualcosa di sgradevole e pericoloso dannato pazzo ringhiò McConnor deluso Zentovice si alzò per ultimo dalla sua sedia e gettò un'altra occhiata alla partita lasciata a mezzo peccato disse magnanimo l'attacco non era poi disposto così male per un dilettante questo signore ha davvero un talento fuori dal comune fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentarvi la novella degli scacchi di Stefan Zweig grazie a tutti